Grazie a tutti per questa presenza, 23 aprile è un po' particolare come è data perché siamo sotto a ridosso delle festività, però vedo che c'è grande rappresentanza da tutta l'Italia, vedo dalla Campania alla Calabria, al Friuli, Venezia e Giulia, la Sicilia, il Lazio, la Pesca, abbiamo anche il sistema della Pesca del Lazio rappresentato, bisogna dircelo. Quindi intanto grazie, un saluto a tutte le istituzioni presenti, quindi vicino a me il Vice Ministro Vagna Gava che oggi, veramente la ringraziamo, non era prevista ma poi l'informalità di chi veramente vuole fare, Vagna ne ha l'esempio lampante, ci siamo interfacciati durante la pandemia, abbiamo fatto tante cose belle, ne continueremo a fare, poi insieme all'amico Giorgio qualche tempo fa, insomma ricorderemo, quindi grazie al Vice Ministro di questa presenza, poi chiederò ovviamente un tuo intervento su quello che sta facendo il Governo in tema di sostenibilità, aspettiamo anche la presenza di altri parlamentari previsti in scaletta, saluto i parlamentari presenti, l'onorevole Mazzetti, saluto il Professor Giunarelli, saluto l'onorevole Caramanna, Totti Di Mattina, Salvatore Di Mattina, i Presidenti delle Commissioni della Regione Lazio, l'onorevole Neri della Commissione dodicesima e aspettiamo anche altre presenze che verranno dopo, quindi per iniziare a ragionare sui temi posti in campo. Anche l'onorevole Pizzimenti giustamente, ecco mi ricorda Giorgio perché ci siamo salutati prima, l'onorevole Colucci, eccoci, che è per altri tre relatori, Presidente di Ribomar, ci siamo tutti, Stefano Maiandi di Fiabba, insomma per presentarci un po' tra noi. Saluto ovviamente, stiamo aspettando anche, era auspicata la presenza dei rappresentanti in Italia del Parlamento europeo, quindi qua c'è il team direct della Commissione europea, Alberto D'Alessandro, con cui ci siamo interfacciati col Ministro Musumeci, poi ecco giù a Catania, e quindi, che dire, inizierei anche a salutare ovviamente il pubblico intervenuto e aspettiamo anche un contributo in video dal MIT sul tema di ciò che è accaduto, ma abbiamo anche l'amico Marco Penna, insomma, che sta seguendo in modo particolare tutti i temi che riguardano il rapporto con la Commissione europea, quindi tra Governo e Commissione europea, difficile sul tema delle concessioni, ma ne parleremo dopo. Vi sorprendo un po' perché parliamo subito di Blue Economy. La riforma delle concessioni ha un po' stancato, quindi proveremo a parlare dei perché ne sa qualcosa pure l'amico di mattina e l'amico Caramanna con cui parliamo spesso. Ovviamente ci sono delle attività che noi vorremmo, ci piacerebbe, fossero messe poste in campo perché è inutile dircelo, la Blue Economy ci affascina, ma ci affascina come modello economico. Se pensiamo a una riforma all'interno di un alveo che è ovviamente esclusivamente quello balneare, non capiamo in quale modello economico ci andiamo a collocare perché diciamo turismo, poi tra noi quando ci sentiamo, ma dobbiamo parlare col turismo, no parliamo con le attività produttive, no non si capisce. Allora immaginiamo l'opportunità di stare all'interno di una interfiliera e immaginiamo che questo, come questo modello possa essere riformato a partire ovviamente dall'alveo del codice della navigazione che è l'alveo fondante sotto il profilo giuridico, quindi è la base. Ma partiamo anche dal fatto che dobbiamo capire questo modello come diventa, come si incardina all'interno di una interfiliera, una rete di sostenibilità, come dice qualcuno degli amici presenti in sala. Quindi rete di sostenibilità che non sono soltanto le reti di impresa ma tutta una serie di attività che inquadrano la Blue Economy e ovviamente con l'opportunità di poterci interfacciare dal mare alla spiaggia all'entroterra. Quindi per spiegarla in modo, quindi l'opportunità di collocare il sistema turistico balneare all'interno sempre di una riforma di riordino ma dentro un modello economico ben preciso perché no anche finanziabile, l'opportunità di finanziamenti. Vorrei solo farvi vedere qualche dato che abbiamo raccolto recentemente. Questi sono i dati della Blue Economy, quanto vale? Quindi tecnicamente parliamo di 137 miliardi di fatturato, 228 mila imprese, aggiungeremo 7478 chilometri di costa, 900 mila occupati. Diciamo 4 milioni e mezzo al dato 2018 di occupati in Europa. Quindi sulla Blue Economy ovviamente l'importanza anche del piano del mare che su cui ovviamente questa mattina c'è una riunione concomitante ma lì non esisteremo a mandare il nostro contributo come abbiamo sempre fatto perché il piano del mare ci appassiona per la propria importanza. Diciamo le parti riguardanti, quello che lo strumento sul tema Blue Economy sul quale ci piacerebbe veramente intervenire, abbiamo appreso anche delle dichiarazioni del Ministro del Medi d'Italia e delle imprese, il Ministro Urso, dove si accennava all'opportunità di, diciamo, le parti riguardanti sono sostanzialmente quelle descritte, le concessioni, il governo degli spazi marittimi e il sostegno alle imprese. Su questi tre asset, Riccardo, dopo un saluto all'onorevole Zucconi che è esperto di concessioni, sto facendo un passaggio sulla Blue Economy perché è un atto dovuto, anche per vedere un modo diverso di inquadramento del sistema delle concessioni in un modello economico ben diverso e che esiste e che ci esclude ormai da sempre. Quindi dico nel turismo costiero, vado avanti, poi mi fermo e lascio. Allora, quali sono i settori della Blue Economy? Settori della Blue Economy, ovviamente, economia blu sostenibile, resiliente, attraverso un piano di azione della Blue Economy europeo. Perché questo? Perché è necessario crearlo ovviamente e far sì che non solo i settori specificati, pesca, acquacoltura, turismo costiero, che la fa da padrone perché è la parte più ricca del sistema della Blue Economy, ovviamente dentro il turismo costiero c'è il turismo balneare. Quindi la transizione energetica, quindi la portualità al trasporto marittimo, l'occupazione blu, l'innovazione e la digitalizzazione, la formazione, l'economia circolare e la prevenzione per i rifiuti, la conservazione e il ripristino della biodiversità. Su queste materie noi stiamo, non su tutte, chiaramente non abbiamo competenza o pertinenza su tutto, però su buona parte di queste argomentazioni o di queste materie principali del tema del sistema Blue Economy, Federballner Italia si sta confrontando. Quindi parleremo dopo di sostenibilità e quindi io su questo andrei avanti nelle individuali i numeri del turismo costiero, poi lascerei la parola al viceministro Gava. Ora, turismo costiero, questo è il dato 2021, fonte della Commissione europea, oltre il 50% di strutture turistiche ricettive dell'Unione europea sono situate in zone costiere, il 30% dei pernottamenti effettuati in località balneari, il 20% del PIL turismo, ovvero parliamo del 14% nazionale PIL turismo, oltre il 20% di questo PIL è rappresentato da quello balneare. Quindi 2020 e 2021 sotto la pandemia abbiamo tutti capito quanto fosse importante avere le spiagge organizzate e attrezzate perché così funzionava anche la parte ricettiva e non il contrario. L'abbiamo vissuto perché ovviamente non avendo una spiaggia perché devo venire a dormire in una località? Avendo la spiaggia attrezzata sul mare, ovviamente ho la possibilità anche di potermi recare e dormire, stare sul territorio e vivere anche il territorio. Quindi l'importanza del mare l'ha fatta da padrona e l'abbiamo vista in modo evidente sotto il Covid. Necessari quindi anche i nuovi investimenti per lo sviluppo di turismi sostenibili, l'incremento, c'è stato un incremento del turismo lento e quindi delle destinazioni naturali anche all'aperto. Lo sviluppo di un nuovo sistema turistico sostenibile mediante l'uso di risorse finanziarie ai vari livelli nazionale, europeo, regionale e locale. Poi dopo ci soffermeremo nell'intervento successivo su quali tipologie di fondi. Come miglioramento della gestione dei flussi turistici e la cosiddetta destagione di azione. Ora se fosse tutto così semplice avremmo un quadro esaustivo. È chiaro che poi lo Stato membro ha delle complicanze burocratico-tecnico-amministrative che dovrebbero essere superate e quindi su questo si chiederà poi il confronto con il Governo e con il Parlamento per avanzare la nostra proposta e poi per confrontarci nelle commissioni competenti. Arrivo perché è un intervento breve. Qual è la nostra agenda, la proposta inclusiva di settore della Blue Economy? Noi abbiamo immaginato senza presunzione una legge quadro nazionale sulla Blue Economy, ovviamente con il collegato alla finanziaria, sarebbe auspicabile. le leggi regionali sulla Blue Economy, ce n'è una che è quella del Lazio e un'altra che è in Veneto, la legge regionali se non sbaglio in Veneto, ce ne sono due, la prima è stata quella del Lazio, la seconda quella Veneta. I contenuti generali che noi immaginiamo possano essere integrati all'interno di questa norma, chiaramente il turismo sostenibile, accessibile ed inclusivo. Le infrastrutture sostenibili, le filiere delle destinazioni turistiche e culturali, quindi di ogni territorio, un piano di marketing territoriale per le individuazioni delle interfiliere di cui parlavamo prima sulla sostenibilità, il sostegno a reti di imprese interfiliere del turismo e delle destinazioni turistiche e culturali, ovviamente del mare e del territorio. La transizione digitale dell'innovazione territoriale e una grande attenzione ad un piano di formazione sulla Blue Economy, molto importante perché ci consente di capire che cosa è questa ormai tanto famosa Blue Economy. La promozione, noi l'abbiamo chiamata, ma sta andando avanti, dopo ne parlerà un altro importante relatore, la promozione dell'Italian Blue Route, quindi tutto ciò che a livello regionale includa il turismo balneare, il prodotto finale, ovviamente l'itinerario turistico territoriale sostenibile. In questo il bilancio di sostenibilità sociale per le imprese, ovviamente che deriva dal rapporto ESG per l'Unione Europea. L'impiego del FEAMPA e arrivo a quello che ovviamente può essere l'indirizzo, il Fondo Europeo degli Affari Marittimi per sostenere le reti di interfiliere. Mi fermo qui e saluto anche l'Onorevole Lupi e lo ringrazio di questa partecipazione. Oggi siamo qui soprattutto per volontà. Volevo ringraziare, ringrazio l'Onorevole Lupi anche perché ci ha dato questa possibilità, siamo all'Onorevole Luci, di essere qui e di poterci esprimere in questa importante aula. Il mio intervento sulla parte iniziale della Blue Economy termina qui. Lascerei a questo punto la parola al Vice Ministro per spiegarci cosa sta accadendo, sotto il profilo ambientale, della sostenibilità autorevole e rappresentativa. Grazie. Grazie Marco. Grazie. Buongiorno a tutti. Un saluto inaspettato, però ci tenevo veramente, visto che sono passata di qua, a farvi un saluto e a fare due parole anche di condivisione con voi. Innanzitutto ringrazio Marco per l'invito, ma anche ho visto per questi punti importantissimi, direi strategici, ma soprattutto perché in un momento come questo avere degli spunti, parlo a nome del Governo, come Governo, avere quindi degli spunti che arrivano del territorio, ma soprattutto da associazioni di categoria che hanno le idee chiare di dove vogliono andare a continuare con gli investimenti nel proprio Paese, per noi è assolutamente fondamentale. È fondamentale perché è chiaro che noi viviamo in questo momento complesso, geopolitico, globale, ma soprattutto in un momento di transizione, parlo a nome del mio Ministero, transizione ecologica, che sicuramente è un'opportunità, ma è un'opportunità con i tempi che devono essere rispettati. Cioè non possiamo avere un interruttore che dalla sera alla mattina ci dice qualcuno da Bruxelles come dobbiamo intervenire, che cosa dobbiamo fare e quindi dobbiamo avere una gradualità e noi abbiamo l'obbligo di accompagnare questa transizione sicuramente continuando a fare quello che abbiamo sempre fatto e a rispettare gli obiettivi internazionali che ci siamo posti come il net zero, la decarbonizzazione, la tutela dell'ambiente, che sono temi imprescindibili. Dall'altro lato però abbiamo anche il dovere di mantenere viva l'economia. Cioè noi dobbiamo dimenticare tutti quei movimenti che negli anni hanno fatto la bandiera dell'ambientalismo come bandiera per un anticapitalismo. Noi dobbiamo continuare a sostenere le nostre imprese che per anni hanno investito nel nostro paese e per anni sono riuscite grazie ai propri investimenti, tecnologia, ricerca, innovazione ad applicare tutte quelle tecnologie che hanno fatto sì di poter continuare con un vero sviluppo sostenibile. E quindi io credo che come Governo ci stiamo continuando a muovere sull'ottica delle semplificazioni, sull'ottica anche di taglio e soprattutto del taglio dei tempi della burocrazia per poter continuare ad investire. Abbiamo un comitato interministeriale per le politiche del mare, il Cipom, dove il Mase fa parte, proprio adesso, lo ricordava Mauro, c'è una riunione in corso e stiamo ragionando anche insieme a voi e lavorando su quello che è il piano del mare, che questo ha una visione strategica e sicuramente tantissimi punti che sono stati indicati prima possono essere inseriti nel piano del mare perché noi dobbiamo continuare a valorizzare tutte quelle realtà, ma soprattutto il turismo in Italia che è una realtà e abbiamo visto i dati prima di che cosa vuol dire la blue economy in Italia. E quindi un turismo che va sostenuto, un turismo sostenibile che abbiamo visto anche dagli ultimi dati della BIT che cosa rappresenta per noi, perché oramai la gente sta andando in quella direzione e noi quindi dobbiamo sostenere le imprese anche a questo tipo di riconversioni che sono assolutamente fondamentali. È chiaro che dobbiamo continuare a sostenere tutto quel percorso anche di efficientamento energetico cosa che abbiamo già visto appunto come ricordavi prima qualche tempo fa e dobbiamo continuare a sostenerlo perché sicuramente questo in un momento di caro energia può essere sotto il punto di vista ambientale chiaramente una conferma di quanto questo governo sta facendo per l'ambiente, ma anche un aiuto sicuramente a voi per abbassare i prezzi dell'energia. Quindi questo è un lavoro che vogliamo portare avanti tutti insieme perché credetemi, credo che amministrazione centrale, amministrazioni regionali, territori, sindaci venerdì ho partecipato al G20 spiagge dove anche lì con i sindaci ho condiviso il loro problema che hanno nel territorio sindaci di piccoli comuni, di piccole realtà che durante i mesi estivi hanno questo effetto, lo chiamano loro fisarmonica. Chi ha fatto come me l'amministratore locale lo sa benissimo che un sindaco si trova in difficoltà anche ad organizzare una giornata o due giornate di evento, immaginiamoci tenere i servizi tre mesi in quello che può essere invece un piccolo territorio che deve vivere tutto l'anno. e quindi anche qua so che c'è un'iniziativa parlamentare con tutte le forze appunto del Parlamento che ci sono accordate proprio venerdì e questo mi fa piacere perché comunque insomma è un aiuto che si sta dando ai sindaci. E quindi veramente io credo che in questo governo e con questi punti che voi avete mostrato adesso il governo c'è, vogliamo esservi accanto, vogliamo accompagnarvi in questo percorso importantissimo ma in questa fase soprattutto importante dove è doveroso appunto il vostro aiuto, il vostro supporto in termini di spunti e di confronto. Noi dobbiamo sostenervi sotto il punto di vista legislativo e sicuramente anche aiutandovi a mantenere e a sostenere le imprese e a continuare ad investire nel nostro Paese. Grazie a voi. Che dire, diciamo intervento esaustivo, quindi sono contento che alcuni punti possano rappresentare spunto utile per il lavoro che state facendo, il governo sta ben facendo quello che deve essere fatto per quanto ci riguarda, noi siamo assolutamente consapevoli dell'importanza e anche del delicato ruolo che ha nella trattativa con la Commissione europea per quanto riguarda il sistema delle concessioni ma vogliamo rilanciare, a noi farebbe molto piacere avere all'interno di una riforma l'opportunità di essere in una interfiliere al sistema dell'economia blu perché questo è imprescindibile, non possiamo immaginare più un settore dove per 15 anni avevamo i capelli biondi, belli, pettinati, sistemati e adesso abbiamo i capelli bianchi e siamo sempre al punto di partenza con il delirio di una riforma che non arriva. Questo è il momento, questo governo ha fatto quello che andava fatto, ha aperto un tavolo, ho avuto il coraggio di aprire un tavolo sulla mappatura, cosa che era prevista, lo abbiamo sostenuto adesso che ne è derivata, per esempio, il tema della, provo ad introdurre un attimino anche l'altro tema il tema della non scarsità della risorsa, credo e lo abbiamo detto anche sul tavolo, al tavolo interministeriale di recente, convocato, che questa tematica va sostenuta. Comunque è un punto di partenza di lavoro che, come dire, tutto il lavoro fatto viene buttato al mare e si riparte da un'altra cosa. No, ci abbiamo impiegato del tempo, il MIT ci ha lavorato, noi ci abbiamo lavorato, gli altri ministeri ci hanno lavorato, c'è un dato scientifico e certificato sulla parte occupata rappresenta il 33%, il 67% è disponibile, quindi quale occasione migliore per andare e continuare su questo dato, su questo tema, negoziato con la Commissione europea. Quello che ci preoccupa è un po' l'instabilità, ma ne parleremo dopo nel rapporto con i comuni che effettivamente hanno qualche difficoltà di approccio, parecchie difficoltà di approccio e quindi comprendiamo anche il loro punto di vista, ma dobbiamo trovare l'energia, le forze e le risorse per poter procedere e trovare ovviamente prima possibile una proposta di riordino che vada nell'alvio e nella direzione ovviamente che noi lo spieghiamo, quindi una riforma subito, questo è il senso. Quindi saluto anche l'onorevole Cavo che è appena arrivata, grazie. Io darei a questo punto la parola al Presidente onorevole Lupi perché è meritevole, anche perché oggi siamo qui. Grazie. Beh, intanto io sarò brevissimo anche perché poi ci sono gli altri colleghi del nostro gruppo che è l'onorevole Cavo, l'onorevole Colucci che insieme, e saluto, permettetemi anche tutti i rappresentanti nelle altri gruppi parlamentari che sono qui e sono qui non formalmente. Mi riferisco ovviamente agli amici di Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, perché da sempre lavoriamo su questo tema per una serie di ragioni che dirò velocemente. Intanto quindi sono a darvi il benvenuto, questo è il luogo migliore, saluto il nostro consigliere regionale della regione Lazio che ha fortemente voluto questo incontro. Quindi questo è il luogo dove era giusto che si facesse questo convegno perché il Parlamento se ne sta occupando è del luogo della rappresentanza positiva degli interessi. La politica deve tornare, lo dico generalmente, a rappresentare gli interessi, se no che cosa rappresenta? Il Parlamento, ce lo siamo dimenticati, è nato esattamente come momento in cui tutti gli interessi della nostra società venivano rappresentati, quelli positivi, e insieme si lavorava per il bene più grande. Chi dice che non bisogna rappresentare gli interessi forse non ha capito la natura stessa della politica, non è il proprio interesse personale, è l'interesse di una categoria, è l'interesse di un comune, è l'interesse di un'associazione, è l'interesse della vita vera e viva di questa nazione. Perché l'ho presa da qui? Perché se il punto di partenza è per capire anche le questioni che voi ponete, sta esattamente su questo livello. Purtroppo si pagano gli errori e il più grave errore che è stato fatto è stato fatto aver inserito nella direttiva drammatica della Bolkesten un settore come il vostro che non c'entrava assolutamente nulla, nulla con il tema della concorrenza. Niente. Perché l'Italia ha una sua tradizione, ha una sua specificità e avete fatto molto bene ad inserire il tema delle concessioni demaniali tra che cosa? La blue economy, cioè perché nascono delle imprese, perché si sviluppano su una caratteristica particolare e non su altra, su un settore particolare e non su un altro, perché l'imprenditore che è la persona che con la sua creatività, con la sua libera iniziativa, con il suo rischio si muove, vede un'opportunità che è legata al suo territorio, alla sua cultura, al suo luogo e lo sviluppa per dare risposte più efficienti ad una domanda che esista, cioè per valorizzare quel patrimonio che è innanzitutto culturale, che è di identità, che poi diventa ricchezza, che poi si traduce in prodotto interno lordo, che poi si traduce in occupazione. Ma il tutto parte da lì, quindi se no non si capisce, non si capisce perché ci sono tanti stabilimenti balneari, perché c'è una specificità, perché c'è una professionalità, perché c'è un modo che è fatto di imprenditorialità che è diversa dall'Italia e da tutti gli altri paesi, perché siamo noi, perché siamo questa caratteristica. Allora aver inserito il tema delle concessioni demaniali tra la blue economy e la continuità di impresa è il modo corretto con cui bisogna affrontare questo tema, perché non è solo una rivendicazione di conservatorismo, perché allora lo si riduce tutto al problema non voglio pagare di più, non voglio legare, non voglio questo, non voglio quest'altro, no, perché tutto rispetto all'obiettivo di tutti noi, che cos'è? Offrire un servizio migliore, più efficiente, di qualità, la qualità è fondamentale, al nostro cittadino, perché per noi la persona è al centro, lo ha detto con forza il Vice Ministro, l'ideologia ambientale non serve a nulla, non è che noi non vogliamo lo sviluppo, la transizione ecologica, la difesa dell'ambiente, chi non vuole la qualità della vita, dell'ambiente, della propria città, ma dobbiamo ricordarci che qualcuno ha creato la terra, ma nella terra ci ha messo un tizio che si chiama persona, uomo e donna, se ce lo siamo dimenticati perché la terra, per essere terra e per non dare la possibilità di vita alle persone non serve tra virgolette assolutamente a nulla, è proprio per questo che la terra va rispettata ed è proprio per questo che il patrimonio ambientale, a proposito di Blue Economy, va difeso. Ma qualcuno si è mai posto il tema che la vostra professione è innanzitutto una difesa del patrimonio ambientale? Un presidio? Guardate, ma questo vale dappertutto, no? Perché chi fa la manutenzione, chi presidia che in quel luogo non sia degradato e chi lo fate solo per il vostro interesse o diventa a proposito del valore costituzionale dell'impresa che ha un valore sociale o diventa una possibilità? Togliamo dappertutto, chi gestisce, chi pulisce, chi toglie le erbacce, chi... adesso sto dicendo una cosa che sembra banale, ma se non è il punto di partenza per affrontare poi le conseguenze anche imprenditoriali, legislative, non si capisce tutto il resto e allora lo si affronta come lo si affronta da burocrati oppure qualcuno dieci anni fa, quindici anni fa, vent'anni fa, trent'anni fa si è dimenticato di questo. Non a caso hanno tolto tantissimi settori ma non hanno tolto il vostro come tantissimi. Qual è la ragione? Perché non c'era questa coscienza, che è la ragione per cui voi siete qui. E devo dire, mi fa piacere aver sentito il Presidente di Feder Balneari di riconoscere che, perdonatemi, almeno questo, nella cultura politica della centrodestra, in tutta la sua espressività, grazie a Dio, quindi da Fratelli Italia alla Lega, da Forza Italia a noi moderati, è ben presente per noi ed è la ragione per cui, non per un corporativismo, ma per cui ci stiamo battendo su questo. Questo era il primo punto. Il secondo punto è aiutarci insieme, lo dico perché magari ogni tanto non voi, ma magari qualche altro vostro collega si dimentica, no? Perché poi, allora dobbiamo dire che va tutto bene, che non ci sono delle difficoltà, che il Governo in questo momento non sta incontrando delle difficoltà in Europa e comunque si sta battendo, che sta svolgendo delle strade. No, bisogna dire questo ma bisogna dirvi che ci sono delle difficoltà. Poi è troppo facile urlare, dire che le cose non vanno, ma non riguarda ovviamente voi. Quindi in questo contesto una strada si è percorsa, devo dire che avete fatto bene a sottolinearlo, ma finisco qui perché poi gli altri sono più esperti, ho imparato anch'io queste cose ascoltando gli interventi dei miei colleghi in aula, che sono qui e non li cito semplicemente perché tanto interverranno dopo. In questo contesto il tema della mappatura e della non scarsità della risorsa naturale è certamente un grande pilastro su cui anche in Europa continueremo a farci sentire, perché a questo punto se il principio della Bolkestan è mettere a gara una risorsa che è scarsa, ovviamente, e quindi va rimessa, c'è solo quella, quindi bisogna metterla a gara, allora bisogna andare in una direzione. Ma non formalmente, se dimostriamo a proposito di sviluppo e di blu economy, che l'Italia ha una potenzialità ancora enorme e ancora inespressa di sviluppo imprenditoriale, quindi che la risorsa non è scarsa e quindi si mette in istituto a gara proprio per vedere, ci sono nuovi imprenditori che vogliono farlo, ben vengano, usando i criteri degli altri, perché per noi la blu economy è una risorsa del nostro Paese. Non ripeto, bene, lo si faccia. Quindi quello è un pilastro fondamentale, in questo pilastro bisogna essere realisti, capire come non siamo solo noi, purtroppo ci siamo, c'è una Commissione europea, ci sono dei funzionari, ci sono dei burocrati, ricordatevi sempre che il problema è che gli italiani, anziché difendere gli italiani, quando sono in Europa i nostri burocrati difendono gli altri e non si capisce questo motivo, forse le maggiori obiezioni ce le abbiamo, lo dico con tutto il rispetto per la burocrazia che per me è la massima espressione dell'efficienza di uno Stato, ma questa era una battuta perché mi è venuta in mente mentre vi guardavo discussioni che abbiamo fatto con la Presidente del Consiglio e con il Ministro Salvini che ci raccontavano, il Ministro Fitto che ci raccontavano ovviamente quello che accadeva in Europa. Quindi fate bene ad aver posto questa questione, fate bene ad aver allargata alla Blue Economy, al tema della continuità di impresa, fate bene a continuare a sottolineare che voi non è che vi opponete alla modernità, allo sviluppo, alla possibilità che si introducano anche, tra virgolette, nuove regole, ad una condizione che non uccidano quello che avete fatto. Quindi mi sembra tutto chiaro, io volevo solo ringraziarvi di cuore, sono già stato troppo lungo, anche perché ho un altro convegno, ma noi ci siamo, ma non ci siamo singolarmente, vi lo garantisco, ci siamo tutti, ci siamo come proposta politica del centro-destra e come governo del Paese. Grazie di cuore. Grazie Presidente, grazie Onorevole Lupi. Grazie veramente a voi. Grazie. Buon lavoro. Grazie. A questo punto io chiamerei l'intervento dell'Onorevole Caramalla. Qualche anno fa, 2021, diciamo che eravamo un po' in difficoltà, non si sapeva cosa succedesse sulla riforma. Io feci una telefonata a un amico qua vicino, dissi guarda, vediamo che cosa succede, cosa fa l'opposizione, perché è importante che l'opposizione faccia sentire la propria voce. Beh, la voce, insomma, si è sentita e quindi quale occasione migliore oggi di parlare di questa voce che sta andando con tutte le difficoltà ovviamente previste, perché ripeto, come diceva prima il Presidente l'Onorevole Lupi, le difficoltà ci sono nel poter gestire un rapporto, diciamo così, complesso con la Commissione europea. Non è semplice, ma ci dobbiamo lavorare. Quindi lascerei la parola all'Onorevole Caramalla. Prego, su questo tema. Allora, buongiorno a tutti. Intanto grazie Marco dell'invito. Il tema è un tema delicato. C'è stato un cambio di marcia, tu l'hai detto, ma anche nei fatti c'è stato un cambio di marcia. Non soltanto nella comunicazione. Ti ricordi quando ci siamo incontrati la prima volta, e quello dico anche a tutti gli addetti ai lavori, la prima cosa che ci siamo detti teniamo un profilo basso. Cioè abbiamo cambiato proprio il metodo di lavoro rispetto a quello che era stato in precedenza. Quindi diciamo una sola esposizione, un'accavallarsi anche spesso di temi e diciamo di dialoghi. Qui il Governo ha preso un impegno, il Governo tutto. La maggioranza di Governo su questo tema è super compatta, ha le idee molto chiare. Purtroppo eredita una situazione che viene da forse 15 anni di disastri che hanno creato adesso una situazione non facilissima da risolvere. Io sicuramente posso dirti una cosa, che la questione della mappatura dimostra il coraggio di questo Governo tutto, anche di diversi ministeri che hanno voluto fortemente insieme al Presidente del Consiglio questo tavolo interministeriale. Un tavolo che ricordo non è ancora chiuso, è un tavolo che si era momentaneamente sospeso, poi è stato riattivato dopo l'interlocuzione con Bruxelles e io credo che un primo risultato importante ci sia stato quello di attirare l'attenzione della Commissione europea, di non farsi chiudere le porte in faccia, di avere un'interlocuzione seria su temi concreti. Adesso la questione della mappatura ovviamente l'Europa non la digerisce così semplicemente, diciamocelo chiaramente, nel senso che ovviamente ci ha detto non va bene perché non non deve essere soltanto quantitativa, deve essere qualitativa e non ci va bene questo e non ci va bene quello. Però il fatto che non ci abbia chiuso la porta in faccia, ma ci abbia detto ok, continuiamo il dialogo, continuiamo questa interlocuzione cercando di trovare un punto di caduta che possa andare bene ad entrambi. Io poi lo voglio dire chiaramente, tra un mese e mezzo si vota, non siamo qui a fare campagne elettorali ovviamente, ma abbiamo l'opportunità di cambiare anche in parte i nostri interlocutori o la visione che hanno i nostri interlocutori sulla materia. Lo ha detto prima l'onorevole Lupi, la Volkestein è un disastro, perché noi oggi parliamo di concessione dei maniali, ma è un disastro su tutto, è un disastro sulle guide turistiche, è un disastro sulla Volkestein, scusate sugli ambulanti, è un disastro ed è anche un modello secondo me superato, è un modello che nel 2023 non può essere più tenuto in considerazione. Noi abbiamo delle difficoltà oggettive, perché comunque ovviamente cerchiamo per quanto c'è possibile come maggioranza di governo, come parlamentari, di dare delle risposte. Io come sai mi occupo anche del Ministero del Turismo come consigliere del Ministro, abbiamo fatto una riforma sulle guide turistiche e anche lì la Commissione punto per punto ci ha dovuto dire questo sì, questo no, perché non va bene la guida gialla ma ci vuole la guida blu. Uno a un certo punto ovviamente deve anche provare a forzare la mano, lo abbiamo fatto e poi vedremo, ma anche perché nessuno vuole alzare i toni, però bisogna anche difendere quelle che sono le nostre eccellenze e credo che le guide turistiche italiane lo siano. Adesso non c'entra nulla ovviamente con i balneari, ma credo che lo stesso discorso valga anche per quelle che sono le nostre aziende. Quindi fatto questa piccola premessa non voglio annoiarvi ma voglio farti i complimenti perché il tema secondo me importante, un tema che anche noi come partito, come Fratelli d'Italia stiamo attenzionando molto è quello della Blue Economy. Forse è anche il fatto che abbiamo il Ministro Nello Musumeci che comunque insieme a tutti gli altri interlocutori anche del Governo ha creato questo primo piano del mare che comunque intanto è un piano che si rinnova ogni tre anni ma nello stesso tempo ancora in lavorazione, ma credo che anche lì la lungimiranza di questo Governo di capire le potenzialità non soltanto economiche ma anche in fase occupazionali, in fase anche di sviluppo del nostro Paese. 8 mila chilometri di costa non vuol dire soltanto ovviamente poter prendere il sole, vuol dire cercare di capire tutte le potenzialità che queste 8 mila chilometri di costa possono dare sia in termini ovviamente di spostamenti, noi immaginiamo anche soltanto col turismo, la parte croceristica, lo sviluppo, i porti e anche quello che è il Made in Italy perché noi poi nel mondo dobbiamo ricordarci che in tutto il mondo ogni due barche che voi vedete una è prodotta in Italia. Quindi tutto quello che il sistema mare può darci in termini di valore aggiunto. Quindi complimenti Marco perché questo è un tema che nei prossimi mesi e nelle prossime settimane secondo me sarà al centro dell'attenzione un po' di tutti i gruppi parlamentari. Io non vado oltre perché comunque mi voglio fermare per ascoltare gli altri interventi e soprattutto ti ringrazio dell'invito e buon lavoro. Grazie a te perché diciamo che sostanzialmente hai espresso il cambio di passo. Per noi è importante che questo cambio di passo ci sia, che continui, che si arrivi a determinare una soluzione sui temi più spinosi. Giustamente io parlavo di interfiliere, interfiliere e guide turistiche fanno parte, è una componente della filiera del turismo ma non solo quello, c'è anche tutto il prodotto del territorio, c'è la parte no gastronomica, c'è la parte pesca, non a caso qui ripeto è rappresentata il sistema della pesca. Noi abbiamo fatto un lavoro straordinario proprio applicando i temi delle blue economy dove c'è la parte balneare, c'è la parte del sistema pesca, c'è il porto, c'è la portualità, quindi c'è il turismo, quindi tutto quello, la sostenibilità a tutto tondo ma lo stiamo facendo realmente e lo stiamo facendo proprio come dicevo prima, non a caso con le reti di impresa e lo stiamo facendo calandolo sui territori. Quindi addirittura identificare delle blue route, ci veniva questo come concetto molto significativo, immaginate dal Lazio blue route al Veneto blue route all'Italian blue route complessiva. Questa potrebbe essere un'occasione per innestarlo all'interno del piano del mare e non solo, perché questo documento che noi abbiamo adesso lo trasformeremo in un documento formale anche per il piano del mare, quindi per il ministro Musumeci, per cui abbiamo anche apprezzato le opportunità che il piano del mare sta offrendo, una revisione strategica che manca da sempre. Quindi siamo 15 anni fermi a parlare del tema della direttiva di servizi, oggi parliamo di temi che sono ormai di 15 anni fa, lo potevamo affrontare 15 anni fa, non l'abbiamo fatto. Abbiamo sempre rimandato, francamente forse andava fatto con più decisione, questo è il momento, questo governo lo sta facendo, lo stiamo veramente apprezzando, la maggioranza è coesa in questa direzione, lo stiamo vedendo, ovviamente per quanto riguarda le associazioni, noi la stragrande maggioranza delle associazioni è su questa posizione, penso che lo abbiate capito, abbiamo anche sottoscritto un documento, continuiamo a lavorare insieme per trovare questa soluzione. Comprendiamo le difficoltà, perché è inutile dircelo, l'interlocuzione con la Commissione Europea è come andare davanti a un muro, è un po' complicato, però auspichiamo anche un cambio di maggioranza. Mi permetto di ribadire quello che dicevamo prima, qui c'è il dottor Penna, c'erano arrivare di mattina, tutti i colleghi che stanno seguendo questo tema, in questo devo esprimere apprezzamento per il lavoro che si sta facendo anche senza darne troppo risalto, c'è profilo basso di cui abbiamo parlato, senza fare comunicato ogni giorno, si lavora cercando di tenere sotto traccia quello che stiamo facendo, proprio perché cerchiamo di capire quelli che possono essere i tasti giusti da toccare senza innervosire nessuno. L'ho fatta molto breve. Ci trovi d'accordo, però oggi era necessario dircelo in una sessione cosiddetta plenaria, era importante dircelo. Grazie. Grazie a te. Io a questo punto darei la parola all'onorevole Di Mattina, perché è un addetto ai lavori, quindi la segue un po' più da vicino anche lui la questione. Noi ci confrontiamo spesso non solo con lui, con lo stesso Gianluca Caramanna, con l'orevole Zucconi, insomma con i presenti, adesso anche con gli amici della maggioranza dei non moderati stiamo avviando un percorso per arrivare a delle interlocuzioni parlamentari, non solo con il Governo, ma anche interlocuzioni parlamentari significative. Io c'è la parola a te. Prego. Buongiorno a tutti e grazie Marco per l'opportunità che ci hai dato un po' a tutti i nostri colleghi per far presente quello che il Governo ha fatto fino ad oggi, in una dinamica che è quella blu economy che è importante e fondamentale. Perché? Perché il turismo bagnare, come dicevi tu, rappresenta concretamente una fetta importante del turismo italiano e contribuisce in modo concreto allo sviluppo di tutto un territorio che è quello legato alla zona retrostante rispetto alla zona costiera. Quindi questo in tante realtà sta permettendo di costruire lo sviluppo di paesi, di borghi che altrimenti sarebbero rimasti piuttosto isolati. E il futuro del turismo io lo vedo non sulla costa, ma al contrario lo vedo attraverso lo sviluppo di queste realtà che sono piccole realtà ma che si trasformano in veri e propri alberghi diffusi, quindi rappresentano un'opportunità di sviluppo di occupazione importantissima in tantissime realtà. Tornando invece alla dinamica che ci interessa, diciamo che è quella legata allo sviluppo del settore balniare, è chiaro che stiamo lavorando da circa un anno e mezzo da appena si è insediato il governo e stiamo cercando di farlo confrontandoci con le associazioni di categoria. Non è un caso che nella legge che ha fatto questo governo alla legge 14 nel primo comma abbiamo voluto istituire il tavolo interministeriale alla Presidenza del Consiglio con la partecipazione di tutte le categorie dei rappresentanti del settore. Balniare e non solo, perché sempre in quel concetto che dicevamo prima di sviluppo del mare, del piano del mare, è giusto coinvolgere tutti coloro che in qualche modo sono legati anche in termini di attività all'ammare stesso. Quindi appena si è insediato il governo noi abbiamo dovuto far riferimento a una norma che già esisteva, che era la legge 118, che prevedeva la necessità di effettuare una ricognizione del resto. Se noi dobbiamo fare una legge di riordino della materia che non esiste, perché non è una legge di riordino, ma è una legge del settore, perché chi conosce bene questo settore sa perfettamente che ad oggi le norme sono state fatte dalle sentenze dei TAR e dei Consigli di Stato. Abbiamo tantissimi problemi, tanti, che forse è necessario affrontare quello della direttiva servizio e la Bolkissen per poter poi mettere mano a tutta una serie di problemi che non sono meno importanti rispetto a quelli della direttiva. Perché? Perché non abbiamo i problemi dello smontaggio, che è uno dei tanti problemi a proposito di sviluppo e quindi di garantire uno sviluppo ecosostenibile. È assurdo pensare che una struttura possa stare montata sei, sette mesi e poi smontarla, perché il danno che si reca all'ambiente è di gran lunga superiore rispetto a quello che altrimenti si potrebbe fare lasciandola lì montata. E anche a questo abbiamo pensato l'anno scorso, non siamo riusciti a farlo stanno, auguriamoci di poter inserirlo in un provvedimento nella legge che in qualche modo si dovrà, nella norma che si dovrà andare a fare. Perché dico che alla fine il governo sta operando bene? Perché noi partendo dalla 118 stiamo lavorando all'interno di quelle che sono i confini delle norme nazionali ed europee, vale a dire, noi abbiamo preso la 118, che era la legge che avevamo, prevedeva una ricognizione, perché la ricognizione all'articolo 2, perché la ricognizione è necessaria per poter fare una legge di riordino. Se noi non sappiamo che cosa insiste concretamente sul demanio, in che modo si può lavorare per fare una legge che tenga conto di tutte le attività che insistono sul demanio, perché anche questo bisogna dirselo chiaramente, sul demanio non ci sono solo gli stabilimenti bagnari, sul demanio c'è di tutto, sul demanio abbiamo gli stabilimenti, abbiamo i ristoranti, abbiamo i punti di ormeggio, abbiamo le concessioni rilasciate ai comuni, abbiamo le concessioni rilasciate ai privati, abbiamo tutto un mondo che gira e che si sviluppa su quell'area che è un'area di proprietà dello Stato. Quindi se prima non abbiamo contezza reale di ciò che insiste non possiamo normare una cosa di cui non abbiamo conoscenza. E per fare questo abbiamo pensato bene attraverso la legge 14, che è una nostra legge, di procedere a individuare la necessità di istituire questo tavolo interministeriale facendo partecipare di tutte le associazioni di categoria per mappare gli 11.000 km di costa che fanno parte e che bagnano in qualche modo la nostra nazione. Questo lavoro è stato un lavoro importante che è stato fatto insieme alle associazioni di categoria, lo ripeto perché è fondamentale, ed è venuto fuori un dato, un dato importante, che forse non è completo, che è quello di una non a scarsità della risorsa, vale a dire è stato occupato e richiesto, perché in quel 33% non c'è solo quello che è stato occupato ad oggi, ma comprende anche il richiesto, cioè tutte le concessioni che sono in itinere, quindi che dovrebbero essere rilasciate perché c'è una domanda, una richiesta di concessione su quella determinata area e quindi abbiamo stabilito che il 60% è fortuna, è libero. Perché dico fortuna? Perché se così non fosse, io tante volte parlando con Marco, perché ogni tanto ci sentiamo, dico fortuna che la risultanza di questo tavolo è stata questa, perché delle due lune, se la risorsa non è scarsa, è possibile prevedere delle nuove iniziative e quindi sviluppare tutto ciò che è legato al turismo, al contrario, se dovesse risultare scarsa non è più possibile rilasciare nuove concessioni e quindi noi avremo un serio problema di sviluppo turistico legato anche alla blu economy per gli anni a venire, in un momento in cui, grazie al cielo, abbiamo una forte espansione del turismo legato al mare e quindi al turismo balneare. Detto questo, abbiamo quindi cercato di trarre questo risultato e iniziare un'interlocuzione con la Commissione Europea. Un'interlocuzione con la Commissione Europea che è in atto. Il concetto di non scarsità della mappatura per noi segue quelle che sono le norme nazionali e quelle legate alla direttiva, alla Bolkis, perché nell'articolo 12 la direttiva prevede che si proceda a fare le cosiddette gare le evidenze qualora la risorsa sia scarsa, se al contrario la risorsa non è scarsa è ipotizzabile prevedere delle nuove iniziative sul demanio, attenzione, marittimo, la quale è fluviale, perché quando parliamo di demanio non parliamo solo di demanio marittimo, ma anche di demanio la quale è fluviale. Tutta la questione della direttiva è venuta fuori dalla famosa sentenza promo impresa che evidentemente era una concessione non sul demanio marittimo, ma sul lago di Garda e chiaramente è venuto fuori. Quindi è chiaro che è necessario, io dico, ma appare anche tutto ciò che insiste sui laghi e sui fiumi. Alla luce di questo, dicevo, stiamo costruendo un'interlocuzione con la Commissione europea. La Commissione europea ha posto un'eccezione che va discussa e ha aperto al dialogo dicendo che la mappatura per come è stata fatta dal governo italiano ha avuto più un'analisi quantitativa e che forse sarebbe anche il caso di approfondire la mappatura attraverso un'analisi qualitativa. Bene, noi ci siamo e siccome non ci vogliamo sottrarre a niente è giusto che ci sia anche una mappatura che tenga conto di questa analisi qualitativa. Certo è che il governo deve partire da un presupposto che non è pensabile e ipotizzabile che non ci siano insediamenti lì dove ci sono le rocce perché noi concediamo in Italia le concessioni e quindi gli stabilimenti da anni i cosiddetti tavolati sulle rocce esistono da 50 anni. Così come esistono da 50 anni tante realtà e tanti stabilimenti, tante iniziative che si trovano in una zona di pregio ambientale che vale a dire parchi nazionali, parchi regionali, io penso al parco del Gargano che comprende tanti comuni e ci sono tantissime realtà e tantissime iniziative che insistono su quell'area. Quindi è chiaro che dobbiamo abbandonare un pensiero ideologico, essere concreti, continuare a ragionare con la Commissione europea su quella che è la mappatura, bene, dobbiamo a questo punto io dico mappare anche quelli che sono i laghi e i fiumi che diciamo in quel tavolo di cui parlava l'onorevole Caramanna che ha fatto un ottimo lavoro e che dovrà continuare il suo lavoro, si dovrà continuare a lavorare affinché si possa ottenere un risultato concreto, preciso ed esatto e che tenga conto anche di un'analisi qualitativa così come in qualche modo concordato con la Commissione europea. Bene, per fare questo e per completare questo lavoro ci vuole un po' di tempo. Nell'interlocuzione con la Commissione europea ci auguriamo che ci sia la possibilità di costruire un percorso insieme che garantisca il tempo necessario per concludere questo lavoro e per arrivare finalmente a dare un minimo di stabilità Marco a questo settore, perché non è possibile pensare di andare avanti così, ne parlavo l'altro giorno con degli operatori che sono esasperati, perché la Blue Economy sì, però per realizzare la Blue Economy occorre fare gli investimenti e in questa incertezza gli investimenti è difficile realizzarli. Io ringrazio ancora te, le associazioni di categoria, perché avete fatto a mio avviso un ottimo lavoro. Noi siamo arrivati alla legge 14 attraverso una compattezza, penso unica, di tutte le associazioni che hanno sottoscritto un documento all'unanimità, penso. È la prima volta nella storia che io conosca e vengo da questo mondo, nella storia dei bagnari, stessa cosa si è ripetuta qualche giorno fa e quindi io mi auguro che da qua a breve possiamo, anche perché da qua a breve è necessario, noi abbiamo un appuntamento importante che è quello del 7 maggio. Il 7 maggio abbiamo il Consiglio di Stato che ha unificato le due sentenze, quella del Comune di Ginosa contro la Gcom e quella, la legge, la sentenza 17 della plenaria, su quella del Comune di Ginosa si discuteva 40 giorni fa, ha rinviato al 7 maggio per unificare le due sentenze e quindi è chiaro che il Consiglio di Stato si dovrà esprimere, ciao Gianluca, si dovrà esprimere sulla scorta, questo è quello che dice la Cassazione, di novità normative che sono intervenute successivamente. Oggi l'unica novità normativa che teniamo è la legge 14, mi auguro che da qua al 7 maggio qualche provvedimento possa venire fuori, perché è necessario farlo in tempi stretti, non abbiamo più tempo, i Comuni stanno partendo a fare le gare, i tempi sono stretti perché seppure le concessioni scadono al 31 dicembre 2024 per fare una gara tra la pubblicazione, la nomina della Commissione e l'individuazione dei criteri che dovrebbe fare lo Stato, ecco perché è necessario procedere velocemente, dovrà partire a giugno e a luglio un Comune virtuoso che voglia in qualche modo non avere poi problemi con la Corte dei Conti perché questo è quello che ci dobbiamo dire. Quindi auguriamoci che il Comune, il Governo è compatto, qui oggi c'erano tutte le forze politiche di maggioranza e quindi diciamo è una cosa positiva. Noi come Lega stiamo facendo la nostra parte, ci stiamo mettendo anima e cuore, è una categoria a cui teniamo veramente molto e già dalla famosa legge 145. Un ringraziamento lo do a Marco Penna che sta seguendo il dossier balneari dal 2018 e ormai tutti quanti i balneari lo tengono come punto di riferimento quando hanno necessità di avere informazioni e quindi auguriamoci da qua a breve, Marco, possiamo avere delle notizie confortanti. Grazie a tutti, grazie a te. Toti, grazie sempre per l'impegno che metti nel quotidiano perché noi ci sentiamo il sabato, la domenica, la sera, la mattina, tutte le ore e anche ovviamente cerchendo di capire quali possono essere risvolti, poi anche con Marco ovviamente ci si sente spesso, quindi è inutile dircela, è una partita difficile, è una partita complicata e dobbiamo anche aiutare, mi rendo conto, i comuni che hanno qualche difficoltà ma dobbiamo anche essere attenti a operazioni che invece sono un po' troppo avventate, operazioni di qualche ente locale che magari si avventura in qualcosa di strano e diciamo che sì, diciamo qualche mese, adesso se il 7 maggio, la vera notizia che ci dai è il 7 maggio con l'unificazione di queste due sentenze, quindi la revisione di quella che è stata le gemelle della plenaria, quindi questo è già un tema secondo me molto importante da tenere in considerazione, quindi 7 maggio è domani, se il governo intervenisse con una proposta, magari questo è più forse azione di governo, ecco questa è una azione di governo ma è chiaro che i tempi stringono, cioè il 7 maggio abbiamo le sentenze del Consiglio di Stato e a giugno diciamo ci sono i tempi stretti dei comuni perché si possa procedere ad assegnare le concessioni dal 1 gennaio 2025, quindi se consideriamo che occorre fare la pubblicazione, che bisogna tenerle 60 giorni, 90 giorni pubblicate, che bisogna fare i criteri, che bisogna nominare la commissione di gara e poi bisogna aprire le buste, quindi diciamo che già partendo a giugno i 6 mesi per arrivare al 31 dicembre siamo lì, quindi il tempo a mio avviso è limitato per mettere mani a una norma che possa in qualche modo mettere un punto a capo e che perché no possa permettere di continuare quel lavoro sulla mappatura che è un lavoro fondamentale per fare poi una legge di riordino che sia una legge di riordino seria che vada ad eliminare tutta una serie di questioni che pensi all'abrogazione per dire dell'articolo 49 del codice navigazione perché il codice navigazione è un codice vecchio, ha necessità di qualche intervento e quindi è giusto completare questo lavoro e la mappatura per fare poi una legge di riordino generale che possa garantire stabilità non solo agli attuali concessionari ma a tutte quelle nuove iniziative che si approcceranno sul demanio marittimo, la quale è fluviale. Grazie, grazie a tutti. Ancora buon lavoro. Diciamo che sul tema del demanio idrico noi abbiamo insistito anche in commissione nel 2022 quando tirammo fuori il tema del demanio idrico, lo ricorderemo in alcune riunioni e qualcuno ci disse ma demanio idrico che c'entra adesso? Dico no guardate che l'avete scritto nella legge Draghi l'articolo 2. Ah beh è vero prego andiamo avanti. Io ancora ricordo un'audizione ho detto bastava uscire, c'era il Tevere, bastava guardare fuori sul Tevere quante concessioni del demanio idrico ci sono. Quindi già quella poteva essere quello il momento ma evidentemente è questo il momento per andare a arrivare ad una riforma. L'Italia non fa mai riforme, per quello che stiamo vedendo, sempre tutto al photo finish, sempre tutto in regime di protezione civile, non si riesce mai a programmare, a pianificare con calma un po' il contesto. Però andiamo avanti, comunque quello che ci è stato detto è molto significativo, specialmente il tema della revisione delle sentenze. Ora io direi questo, siccome ci sono dei lavori parlamentari io lascerei la parola per due interventi, non vedo l'onorevole Colucci a questo punto e per poi dopo passare al tema del codice degli appalti con l'onorevole Mazzetti perché ci sono lavori di commissione in questo momento. è stato detto già molto questa mattina e visto che ha fatto bene l'onorevole Lupi a sottolineare che c'è un vero lavoro di squadra tra i colleghi che sono intervenuti questa mattina e con i quali lavoriamo con grande intensità su questo tema. Tanto è stato detto e quindi vorrei evitare da questo punto di vista ripetizioni. Mi sembra che il tema è stato inquadrato veramente molto bene, io voglio aggiungere solo alcune considerazioni. Noi dobbiamo andare in modo molto rapido perché anche quello che abbiamo fatto nel decreto mille proroghi in cui abbiamo prorogato fino a fine anno, fino al 31 dicembre 2024, ha avuto un richiamo il Presidente della Repubblica che ha sollecitato Camere, Senato e Governo ad intervenire con una norma e condivido il fatto che è necessaria una norma, non c'è da rivedere nulla, è da fare esattamente una norma che inquadri perfettamente il settore e che tenga conto di tutto ciò che è successo in questo periodo drammatico. Perché intanto la pandemia c'è stata per tutti, compresa per questa impresa, ed è quella che ha sofferto di più ed è quella che ha fatto rilanciare l'economia nel nostro Paese appena abbiamo riaperto. E questo va assolutamente tenuto conto. Della peculiarità del nostro Paese noi dobbiamo tenere conto, perché le norme europee, che rispettiamo, siamo in Europa, quindi facciamo in tutti i modi il ruolo del Paese che fa parte dell'Unione Europea, ma l'Italia sull'aspetto costiero è totalmente diversa dagli altri Paesi europei. Una normativa europea non può essere calata a tu cur su un Paese come l'Italia. Tenuto conto che poi il tema della concorrenza è tutto da comprendere nel tema dei balneari e delle coste, perché ha ragione il Presidente Lupi, è stato fatto un errore iniziale che doveva essere recuperato in quella fase. Ora siamo all'interno di questo ambito, ma dobbiamo capire intanto la concorrenza, che è una questione che vogliamo tenere assolutamente in considerazione, ma la concorrenza permette a chi fa impresa di essere più efficiente e al cliente di trovare il miglior servizio e il miglior costo. Ma proprio per questa ragione, nel momento in cui parli di concorrenza, devi tener conto della peculiarità italiana e devi soprattutto entrare nel merito di qual è il lavoro che i balneari hanno fatto fino ad oggi. La concorrenza per che cosa? A chi possono essere destinate le realtà che sono diventate importanti grazie ai lavori dei balneari? Perché sicuramente c'è da tener conto degli investimenti, della storia, dell'impegno, ma io voglio anche tener conto dei rischi. Quali sono i rischi di operare in un certo modo nel nostro Paese? Che tipo di risultato può dare una multinazionale che prende in mano 20 strutture balneare oppure ancor peggio magari qualche altra realtà con cui non vorremmo avere a che fare? Allora su questo noi dobbiamo essere molto chiari. Quindi la strada intrapresa, così sono molto rapido e concreto, perché poi la politica è credibile e se è concreto se fa le cose. Credo che sia la ragione per cui poi nel Paese, indipendentemente dalle appartenenze, gli italiani sono voluti tornare alla politica, hanno scelto la politica, non hanno più scelto i tecnici, hanno scelto la politica perché evidentemente hanno voluto rimettere alla prova la politica per dire vediamo se ha capito la lezione e se facendo i politici fanno delle scelte adeguate. Allora noi rimaniamo fermi sulla nostra impostazione, quella che è stata perfettamente descritta in precedenza. La mappatura è all'interno del Bolkestein, non ci siamo inventati nulla, è prevista. Ci è stato detto che non l'abbiamo fatta bene, abbiamo utilizzato i dati che erano a nostra disposizione. Non va bene perché è troppo quantitativa e bisogna farla più qualitativa. Possiamo insieme all'Unione Europea, alla Commissione, fare una nuova mappatura in base ai loro criteri. Però attenzione nei criteri, così come abbiamo tenuto alta la testa con orgoglio quando abbiamo fatto la direttiva sugli imballaggi dove l'Italia è tornata protagonista e non abbiamo subito una norma ma abbiamo ricostruito insieme Calandola sull'Italia. Quindi ci sono degli esempi dove delle cose si possono fare in modo diverso. Il PNRR è la dimostrazione di come sono cambiati criteri per renderli più adatti all'Italia. Allora noi nel rifare la mappatura dobbiamo anche definire cos'è la qualità. Perché c'è una concentrazione turistica in alcune zone dell'Italia dove il mare non è il mare più bello d'Italia. E perché allora si va in quei luoghi? Perché qualcuno ha fatto dei servizi, ha fatto delle strutture e le ha prese attrattive. Allora io sul tema qualità vorrei ragionare qual è la qualità? La sabbia o gli scogli sono qualità? Per noi sabbia o scoglio non cambia niente perché ci sono strutture balneare sugli scogli, giusto? Non diciamo nulla di strano. Allora se mi dici che non posso farli dove c'è l'ILVA siamo tutti d'accordo ma mi sembra che l'ILVA l'abbiamo già esclusa a priori. Quindi è giusto mantenere un rapporto serio, concreto con la Commissione europea. Siamo certamente disposti a sentire le loro ragioni ma è necessario con determinazione prima di fare qualsiasi passaggio sul tema della mappatura, lavorare insieme stabilendo magari con forza e complessità quali sono i criteri da cui si parte in modo tale da rifarla ma io sono convinto che ci allontaneremo di poco dalla mappatura già fatta, che la risorsa della costa demaniale è una risorsa scarsa e che quindi prima di arrivare a determinate soluzioni come quelle su cui ci ha sollecitato l'Europa in Italia questo non sarà necessario ma dobbiamo farlo con passaggi giusti però alzando la testa che siamo un Paese che ha dimostrato in questi mesi che vuole far parte di un'Europa forte ma l'Europa è forte se l'Italia è forte e l'Italia è forte se chi ha contribuito alla ricchezza, alla costruzione anche della bellezza del nostro Paese non viene trascurato ma viene valorizzato e credo che sia la battaglia principale su cui noi tutti ci dobbiamo attestare e mi sembra che da questo punto di vista siamo assolutamente concordi ed è una di quelle rare occasioni dove non ci sono neanche sfumature quindi credo che sia la certezza più importante che potevamo darvi questa mattina. Grazie e buon lavoro in bocca al lupo. Grazie, grazie onorevole Colucci, grazie. Diciamo molto sul tema dei rischi, sì, importantissimo perché effettivamente lo abbiamo affrontato diversi anni fa, oggi viene riproposto in una versione diciamo abbastanza nuova perché dopo 15 anni si torna nuovamente a parlare di rischi francamente non possiamo non tenerli in considerazione. Quindi tema della mappatura, io avrei immaginato pure una cosa, dopo forse non so quante ore di riunione del tavolo interministeriale magari saperlo prima e non leggerlo da Bretton che era necessaria una mappatura qualitativa francamente ci fa un po' come dire specie. Saluto il vicepresidente della regione Lazio, l'onorevole Angelilli, grazie. Volevo dire quindi una cosa, adesso lascerei prima di arrivare alle conclusioni lascerei la parola, cambierei un attimino anche per gli impegni dell'onorevole Mazzetti, lascerei la parola all'onorevole Mazzetti sul tema del decreto legislativo 36 perché effettivamente è stata relatrice in commissione dei lavori pubblici, la ringrazio prego, per poi ovviamente un confronto anche sul tema con il professor Zunarelli e ovviamente in tema diciamo di spacchettamento delle concessioni che abbiamo chiamato con modo anche forte un passaggio anche con l'amico Giorgio Ardito, con il presidente Friuli Venezia Giulia perché credo sia significativo parlare anche e soprattutto di questo visto che è un tema che abbiamo affrontato subito durante la legge Draghi cercando di far capire a quella maggioranza che questa operazione avrebbe depauperato il nostro patrimonio imprenditoriale. Quindi andrebbe ovviamente questo intermezzo importantissimo di cui poi lascerò la parola al presidente Ardito. Prego l'onorevole. Ecco sì grazie a Fede il Barneari per questo graditissimo invito, grazie a tutti voi che state qua ad ascoltarci ed a confrontarsi con noi. Tutto quello che è stato detto sui Barneari naturalmente come gruppo di Forza Italia condividiamo e facciamo con voi la battaglia soprattutto i colleghi Deborah Bergamini e Maurizio Gasparri che fra l'altro fanno parte anche del tavolo interministeriale stanno facendo diciamo questo lavoro insieme a tutto il centro destra perché crediamo veramente che le aziende devono essere messe al centro della politica nazionale ma anche soprattutto europea. E mi dole dirlo perché io sono un'europeista convinta che negli ultimi anni tutto questo in Europa in diversi settori non solo quello dei balneari ma mi viene in mente anche di case di tanti altri settori non è stato messo per cui è fondamentale porre l'attenzione a livello nazionale ma soprattutto a livello europeo e come ha detto anche prima il mio collega fra poco più di un mese ci saranno le elezioni e sicuramente questo sarà un passo fondamentale affinché il buon governo che c'è in Italia si possa rispecchiare anche in Europa per rimettere al centro d'attenzione le aziende, i professionisti, chi produce nel nostro Paese. Tanto è stato detto su questo tema e non mi voglio ripetere. Voi mi avete chiesto una cosa specifica. So che negli ultimi mesi c'è anche della confusione nel settore. Come lei ha detto sostanzialmente del codice appalti ultimo e posso dire chiaramente che nell'ultimo codice appalti non c'è nessun tipo di riferimento alle stazioni balneari e a tutto quello che è il demanio marittimo e portuale. So che alcuni sindaci che stanno facendo richiesta anche per i bandi stanno legando questi bandi ai codici appalti però veramente in modo tutto franco non mi viene in mente in che modo perché non c'è un articolo che rispecchi questo settore. C'è qualcosa di simile? Sì perché naturalmente ci sono delle parti pubbliche e tutto quello che viene affidato nel pubblico viene messo a bando di gara con il codice appalti. Poi sono molto sincera questo codice appalti che è nato in conseguenza al PNRR si è incentivato molto sui lavori pubblici rispetto a servizi e fornitore benché poi è il contrario perché nel nostro paese gli appalti vengono molto più dati per le forniture e servizi anziché per lavori pubblici. Ora stiamo in un periodo eccezionale del nostro paese dove dobbiamo affidare tantissimi lavori pubblici grazie al PNRR e altre diciamo procedure parlamentari che sono in corso e questo è un bene per il nostro paese perché era da tanti anni che era necessario un nuovo codice appalti. Quello del 2016 sappiamo come è andato fra l'altro siamo arrivati al 2012-2013 quando abbiamo fatto il nuovo codice appalti e ancora mancava la metà dei regolamenti applicativi di quel codice per cui è chiaro e lampante che doveva essere fatto non solo perché ce lo chiedeva l'Europa per il PNRR ma perché il nostro paese, i nostri imprenditori, i nostri professionisti ne avevano una necessità imminente per realizzare le opere perché sappiamo benissimo che negli ultimi dieci anni le opere del nostro paese erano bloccate in parte da questo codice e in gran parte da una politica che c'è stata ideologica che era per non fare le opere invece che per farle. Senza considerare che io lo dico sempre perché è il settore che seguo meglio quanto costa non fare le opere perché tutte le volte che sento che propongo qualche opere ho detto ma quanto costa e io gli dico ma se non si fanno quanto costa? Basta pensare a una opera simbolo del nostro paese che ora è in forte discussione ma da vent'anni che fu proposta il governo Berlusconi è il ponte dello Stretto di Messina giusto o sbagliato ci sarà da fare le riflessioni l'importante è di parlare e a fare un percorso che ci porti in quella direzione ma quanto è costato in questi vent'anni non averlo realizzato? Credo molto di più quanto costerà ora realizzarlo questo è un esempio lampante ma ce ne sono tantissime dai piccoli a grandi. Tornando al vostro tema specifico e quello dicevo prima non c'è collegamento fra questi due temi perché mentre nel codice del 2016 c'erano dei riferimenti a quello che era il demanio in questo non c'è. Poi so anche parlando con colleghi ma anche persone del vostro settore a giro per l'Italia che ci sono alcune zone dove stanno nascendo o sono in procinta di nascere consorsi stabili per quanto riguarda i balneari che in alcuni casi si stanno mettendo insieme. Ecco se si definisce a quello sì il codice appalti parla anche dei consorsi stabili per cui potrebbe essere ma oggi con il singolo proponente che si candida a prendere diciamo lo strumento non esiste tutto questo. Se poi invece il nostro paese va verso la direzione dei consorsi stabili allora ci può restare. Io credo veramente che ci sia una grande confusione. La confusione principale è partita proprio la Bolkestan perché lì è un provvedimento che parlava di servizi e io credo, sostengo ma mi sembra abbastanza palese che le attività che hanno preso in concessione i strumenti delle aree più che servizi sono aziende perché hanno gli stessi diritti e doveri delle aziende. Io credo che chiunque paghi le tasse su questi immobili che ha costruito lì, sulle licenze, deve rispettare le normative, deve rispettare tutto quelli che sono regolamenti urbanistici edilizi dei comuni e allora sono aziende che poi siano ristoranti, che poi sono coloro che affittano la canoa, che poi non mi ricordo che diceva prima, sono tanti i settori da chiusi in quel tema. Per cui ben venga l'economia blu dove venga all'interno anche questa filiera di sistema, però naturalmente va messo una sintesi a tutto questo. Aspettiamo certamente come va la direttiva europea, il grande lavoro che ha fatto questo governo di centro-destra anche nei confronti dell'Europa è stato importante, non so se si deve essere ottimisti più di tanto perché mi sembra che la direzione sia un po' diversa anche se siamo ottimisti perché il partito del no in Europa non vinca le prossime elezioni per cui possiamo riaprire un capitolo importante. Ma nel nostro Paese dobbiamo sicuramente fare un testo unico anche per gli affidamenti delle stazioni, io dico balneari ma poi sono fluviali, sono dei laghi, sono tutto quello che si affaccia su un corso idrico che sono tanti nel nostro Paese, per fortuna ci vengono da tutto il mondo perché abbiamo i laghi più belli, le spiagge o i mari più bello e abbiamo anche corsi di fiume, insomma tutta una serie di attività che sono fondamentali. Per cui io credo che con i parlamentari di maggioranza, aspettando anche quello che succede al Consiglio di Stato che è a breve e le varie procedure legislative e europee, credo però che tutti insieme a voi più che altro perché dovremmo confrontarci soprattutto, almeno io quando lavoro nel mio settore che è legato a lavori pubblici, edilizia ma anche altri, io parto sempre da un confronto e dall'ascolto da chi realmente vive quel settore perché poi si possono fare meglio le leggi perché che possono essere più applicabili. Siccome capisco dai vari interventi che ci sono sostenuti ma anche ascoltando vicino al mio territorio, soprattutto la Versilia che non tutti i giorni ma quasi mi chiama un amico di una stazione balneare che mi prospetta questa difficoltà, dobbiamo veramente unirsi tutti insieme, voi con la politica e anche le amministrazioni comunali perché ora c'è questa confusione, poi ce ne saranno altri, per cui anche ANCI dovrà avere un ruolo importante in questo sistema affinché si faccia un codice unico di tutti coloro che devono prendere in affidamento tutte quelle strutture che stanno sulle reti idriche, più grandi, più piccole, laghi, fiumi, qualsiasi mare, quello che sia. Per cui io credo che l'impegno nostro sia anche in questa direzione, prima di tutto fare gli ultimi chiarimenti per la mappatura che è fondamentale giustamente, se ce lo dicevano prima magari si perdeva tempo, tutto questo tempo è ovvio, ma fatto questo ho capito i numeri del nostro Paese sia a livello di occupazione di superficie ma anche economico, di occupazione di persone e tutto questo con le varie norme che ci sono perché ce ne sono diverse e a volte come spesso succede nel nostro Paese in contrasto fra di loro perché poi c'è tutti i piani territoriali regionali che sono da prendere in considerazione, i piani urbanistici, ecco rifare una legge quadro proprio dove si parte dai principi come è fatto nel codice a parte perché il codice a parte si basava su dei principi che la politica dava, i principi che penso possono essere anche ripetuti su altri temi perché i principi che abbiamo diciamo portati avanti per il codice appalti sono il principio del risultato e credo che sia fondamentale, risultato e qualità, l'apertura al mercato e anche quello che è la fiducia, che questo è il tema fondamentale, la fiducia fra le stazioni appaltanti e l'imprenditore che affida il bando. Ecco su questi principi ma possono essere anche diversificati, io credo che ci dobbiamo basare, dobbiamo lavorare e mi dispiace se c'è delle pubbliche amministrazioni come alcuni comuni sento in questi giorni che hanno prospettato il fatto che dobbiamo lavorare, fare i bandi con il nuovo codice a parte perché ripeto non c'è nessuna traccia di questo che è il codice a parte, altro che, e qui secondo me dobbiamo anche aprire una riflessione anche con voi, se non credono gli stabilimenti balneari italiani di andare verso i consorsi stabili. Allora se si va in quella direzione, allora sì, il codice a parte parla dei consorsi stabili e come tali devono essere garantiti. Allora io direi che è sempre importante confrontarsi su questi temi, stiamo facendo un grande lavoro ai vari livelli amministrativi sia nazionali che europei, aspettiamo il manazzo in questione di giorni cosa risulta da tutto questo, dopodiché con molto piacere e con l'esperienza avuta anche per il codice a parte ci possiamo confrontare per vedere e fare una legge quadro per quanto riguarda anche questo settore che credo sia uno dei settori fondamentali del nostro Paese, sia da livello economico ma anche ambientale e strutturale. Onorevole, che dire, noi la prendiamo in parola anche perché la competenza è talmente importante, questa competenza specialmente io ho avuto il piacere di capire che cosa fosse il consorzio stabile con tutte le difficoltà del caso, effettivamente è un mostro che o governiamo o subiamo, questo è il tema. Lo so bene, l'abbiamo studiati e effettivamente sono un tema molto preoccupante, molto più preoccupante rispetto a quello che potrebbe avvenire come sta avvenendo in alcune parti d'Italia, per esempio nel nord-est e non solo. Quindi andrebbe interpretata, quindi raccolgo la sfida di poterci confrontare su questo tema e la ringrazio. No, no, buon lavoro, buon lavoro, grazie. Io lascerei un attimino la parola al Presidente Ardito perché prima dell'intervento impegniamo il Professore su due ambiti importanti, ma il tema del Presidente Ardito è un tema significativo perché chiaramente guarda a tutte le criticità possibili e immaginabili sullo spacchettamento. Poi vorrei anche l'intervento, se possibile, dell'amico Roberto Marin della Gitta di Grado per spiegarci l'esperienza di Grado, quello che sta succedendo. Quindi un tema importante che riguarda sì i grandi complessi, ma anche i piccoli complessi che stiamo vedendo su Roma, lo stiamo vedendo in altre parti, lo stiamo vedendo in Campania, lo vedremo in altre parti d'Italia. Francamente questo aspetto della norma ci turba un po', ci crea qualche preoccupazione e francamente crea forse qualche problemino anche sulla valutazione del valore aziendale, perché se spacchetti un'azienda che con il proprio bilancio di sostenibilità riesce a mantenere degli impegni anche all'esterno, soprattutto all'esterno, quell'azienda è completamente depauverata per fare che cosa? Per aprirla ad un'altra azienda che sarà depauverata e già partirà povera. Passatemi, mi sembra proprio veramente un'idiozia, quindi questo è un tema che deve essere affrontato su un profilo tecnico, giuridico e spiegato al legislatore. L'abbiamo fatto già nel 2022, ma la maggioranza era diversa, oggi abbiamo una maggioranza politica in grado di poterlo capire, su cui faremo ovviamente l'euro. Quindi lascio la parola all'amico Giorgio Ardito, do il puntato, eccolo, questo così puoi cambiare, se punti verso la stazione. Grazie, grazie Marco, insomma come vedete dalla prima slide siamo dentro assolutamente alla Blue Economy, nel nostro caso il Friuli Venezia Giulia, poi oltre al mare abbiamo anche una laguna, una delle cinque lagune in Europa, forse non la più conosciuta, ma forse anche una delle più belle ancora, con possibilità di essere valorizzata. Quindi abbiamo una costa sabbiosa, una costa rocciosa, abbiamo come dicevo il mare, la laguna e quindi è anche un demanio idrico e fluviale. Infatti sulla mappatura, io mi sono partecipando ad alcuni degli incontri che ci sono stati lì a Palazzo Chigi, ho rimarcato che deve esserci anche la mappatura non solo l'acquale fluviale, ma anche lagunare, perché nel nostro caso in laguna abbiamo un sacco di concessioni. Blue Economy è chiaro che ci siamo dentro proprio alla grande e anche ISG e sostenibilità, ma lo vedremo magari nelle slide successive. Qui abbiamo cerchiato solo le località, chiaramente quelle più conosciute della nostra regione, sono Lignano, Sabbiador e Grado, abbiamo messo anche Duino, perché abbiamo un associato anche lì. Allora, beh, la legge Draghi, come sapete, prevede anche la possibilità di spezzettare le concessioni esistenti. Qui avete una bella foto panoramica della concessione della società Lignano Pinetta e in parte anche di quella di Riviera che arriva fino al tagliamento. Sono concessioni, sì, molto grandi, è vero, ma che sono state sviluppate e gestite, ma nel nostro caso da quasi 70 anni vedremo in quello di Grado che supera addirittura il secolo. Perché secondo noi lo spezzettamento non ha senso? Perché chiaramente l'impresa perde la sua capacità di operare, perde di valore. Pensiamo solo a tutti gli immobili, qui ne vedete alcuni, sono sette stabilimenti balneari, abbiamo una passeggiata sopraelevata lunga più di un chilometro, sotto delle cabine in muratura e un sacco di altre attività, da negozi a giornalai tabacchini, a pubblici esercizi, abbiamo un parrucchiere che è un centro estetico piuttosto che un laboratorio di tatuaggi, non ci facciamo mancare nulla. Chiaramente uno spezzettamento secondo noi porta anche a una riduzione del personale impiegato perché chiaramente con una concessione così ampia si hanno anche delle figure molto professionali che probabilmente in concessioni più piccole non troverebbero la loro collocazione. Concessioni di queste dimensioni sono anche molto di supporto alle amministrazioni comunali perché, lo vedremo anche in una slide successiva, di eventi e di attività che vengono svolte per intrattenere i turisti, insomma ne vengono portate avanti tante. Chiaramente le concessioni di dimensioni inferiori hanno più difficoltà a farlo. Vediamo, ecco qui c'è una bella foto del parco aquatico di Grado e della terrazza mare di Lignano, un'icona della nostra località. Beh insomma, come dicevo ci sono concessioni che hanno come dico 70-100 anni, Grado è la spiaggia della Mitteleuropa e adesso, ma ve lo dirà Roberto, pensare che un comune possa immaginare 13 umi su una spiaggia che invece è rimasta sempre unita dai tempi di Maria Teresa d'Austria, mi pare che non vada contro proprio il buonsenso. Ma vediamo anche che queste concessioni sono state portate avanti negli anni come anche con dei piani particolareggiati, con dei PAC e quindi con le concessioni edilizie che adesso hanno permesso di costruire. Cioè praticamente è rimasta una impostazione organica e unitaria. E questo si vede, nel senso che c'è un valore identitario in questa architettura urbanistica di queste concessioni di dimensioni importanti. E quindi immaginare che possa essere spezzettato da noi, avendo avuto l'architetto Marcello Dolivo che ha pensato alla pianta urbanistica dell'intera località, che fra l'altro è sempre la nostra azienda e che negli anni 50 l'ha realizzata tutta, anche gli uffici spiaggia, gli stabilimenti balneari sono tondi. Li abbiamo ampliati a inizio anni 2000, ma abbiamo mantenuto questa forma tonda. Adesso è chiaro che se viene spezzettato e diamo uno stabilimento a ogni nuovo concessionario, io credo che nel giro di qualche anno di questa unitarietà non troveremo proprio un bel niente. Ma anche quelle che hanno pregio naturalistico, tra Pineta e Sabbiador abbiamo addirittura ancora le dune. Cosa facciamo? Dividiamo una duna a testa, no? O aduino con uno stabilimento balneare sulla roccia, come fai a dividerlo? Non si capisce. Ecco qua è una foto, insomma, non piacevole, ma le marezzate, le piene del fiume Tagliamento da noi arrivano spesso e magari a grado saranno quelle dell'Isonzo, ma insomma di materiale spiaggiato ne abbiamo a Iosa e che se non abbiamo uomini, mezzi, attrezzature per intervenire subito, creiamo disastri. Perché se tutto questo materiale di solito arriva con lo scirocco, arriva poi la bora, lo sotterra, non riusciamo più a pulirlo e abbiamo problemi poi per diversi anni. Ho sentito anche l'onorevole Dupi, sì, effettivamente siamo dei custodi dell'arenile perché siamo lì appunto sempre, tutto l'anno, pronti ad ogni evenienza. L'organizzazione non è solo appunto di uomini, attrezzature e mezzi, ma è anche di procedure, di standard qualitativi. Noi ci stiamo certificando, ad esempio, sia ISO 9000 che 14000, che quella 13900 per gli stabilimenti balneari. Stiamo portando avanti il bilancio di sostenibilità. Siamo i promotori della prima comunità energetica da fonti rinnovabili, l'hanno ribattezzata la prima CER balneare. E poi, chiaramente, con questa organizzazione abbiamo anche delle figure professionali specializzate, collaborazione con tanti professionisti, programmi gestionali, professione online e altro. E chiaramente anche delle economie di scala che da questo ne derivano. Ecco, qui vedete una cosa un po' simpatica, effettivamente. L'animazione stile villaggio è nata vent'anni fa a Lignano Sabiadova, chiaramente si è stesa un po' su tutto il litorale, a grado anche, non sono da meno, ma chiaramente palchi, animatori di... Non so, noi abbiamo l'equipa Animavera di Maurizio Zamboni, il postino di Seposta per te di Maria De Filippi, ma insomma abbiamo animatori che stanno lì la mattina e la sera in spiaggia, mattina e pomeriggio in spiaggia, ma la sera si esibiscono nelle spiagge della località. E quindi, come dicevo prima, questo lo possiamo fare. Siamo molto di supporto alle amministrazioni comunali. Ecco qua, vedete alcuni degli eventi, insomma, non ci sono quattro gatti, magari nelle prime due slide questa è una festa che organizziamo prima di uno spettacolo pirotecnico che è molto seguito, l'incendio del mare fu un'idea anche di mio padre, ma c'è anche qua mia sorella in sala, come una grande collaborazione con la scuola di Mosaico di Spilimbergo con cui abbiamo abbellito tutti gli stabilimenti balneari. Ma non è solo questo, si imposi anche di scultura, rassegne culturali e denologiche. Chiaramente, sì, siamo un pezzo di località o siamo di grande supporto alla località, per cui uno spezzettamento è come, insomma, tagliare un braccio a un collaboratore e pensare che poi questo possa produrre essere entusiasta di lavorare nella tua azienda come prima e più di prima. Ecco, qui altri due esempi. Abbiamo la foto del parco acquatico di Grado sulla destra, quello di Lignano Riviera sulla sinistra, la foto dello stabilimento Legginestre di Duino. Chiaramente, come dicevo, uno spezzettamento ha effetto immediato che tutte queste attività che contribuiscono alla qualità della vacanza, all'esperienza del turista, vengono meno. Però abbiamo anche strutture, cioè un capannone da 2.000 m2 noi, da 2.500 m2 la Lignano-Sabbiadoro-Gestioni, quello di Grado non so, ma ce lo dirà magari Roberto, e sono, sì, delle strutture che hanno una loro utilità se l'azienda resta tutta assieme. Se viene spezzettata cosa facciamo? Lo dividiamo in lotti, questo capannone, cioè gli lettini, gli ombrelloni, i trattori, i rimorchi, le puli spiaggia, le puli strade, cioè ce n'è di ogni. Noi ci siamo strutturati con degli immobili che funzionano per la concessione che c'è, non per un quarto, un quinto, un decimo o un tredicesimo, come magari ha in testa il commissario di Grado. E quindi niente, insomma, uno spacchettamento per noi è una cosa che va proprio contro natura. Noi siamo aziende, siamo imprese, siamo cresciuti e abbiamo dato tanto al territorio. L'esempio nostro come società Lignano Pineta siamo una parte proprio di questa località e quindi sì, anche in un discorso di indennizzo non riusciamo veramente a immaginare come possa funzionare. Non so, uno paga un pezzo dell'indennizzo del valore dell'azienda ma poi tutti i beni dopo si divide tutto come a chi? Cioè, vengono sorteggiati? È una cosa che non funziona. E noi siamo, ma ci saranno altri interventi che seguiranno per stimare queste aziende con dei professionisti magari, professionisti sicuramente iscritti all'albo, magari anche nominati dai tribunali, che possano dare un valore che è un, secondo il criterio misto, reddituale e patrimoniale, è un criterio che stima sia l'avviamento commerciale e la sentenza della Corte di Giustizia Europea, la ETSA, è sempre del 2016, come la sentenza promo impresa, ma nessuno la cita mai, no? Però anche la Corte di Giustizia Europea alla fine ha parlato di avviamento, ha parlato di valore di azienda, no? Però non sento mai, non viene mai citata. E invece c'è. E l'altra parte è quella degli immobili, perché è stato detto, so che forse verrà portato avanti a breve questa modifica del codice di navigazione, perché l'articolo 49 che prevede una devoluzione gratuita degli immobili alla scadenza della concessione è una cosa anacronistica. Non credo che sia, è sicuramente contrario al diritto euro unitario che non prevede degli espropri gratuiti senza il pagamento di alcun corrispettivo, no? Qua vedete ad esempio il Cursal, questo è un immobile importante, è stato costruito per realizzarci un casino, adesso verrà riconvertito in un hotel, ma non si può pensare che, io ero ieri lì all'assemblea di Federalberg, di Friuli Venezia Giulia, insomma, come si può pensare che questo popò di edificio sul mare con tanto di piscina, di sale, eccetera, possa essere così, regalato allo Stato senza, dopo averci pagato l'Imu, l'Atari, aver fatto manutenzione ordinarie, straordinarie e altro. Un ultimo cenno al brand dell'impresa, ma qui so che ci sarà un intervento, è una cosa anche importante, perché molte destinazioni turistiche hanno il nome della stessa località che gestisce gli stabilimenti turistici. È il nostro caso, ma non l'unico, e niente, dai, io con questo concludo e lascio la parola a chi mi seguirà. Grazie. Grazie, Giorgio. Diciamo che siamo entrati sul tema regionale, più che altro, perché qui stiamo spiegando il modello Friuli, quindi come funziona il modello del nord-est, un modello organizzato, molto strutturato, che io ho visto di persona, ne abbiamo discusso, parlato anche con le istituzioni, trovo incredibile che si possa parcellizzare, anche di questo parliamo, parcellizzare, abbiamo utilizzato un termine, probabilmente non consono, lo spacchettamento, ma è previsto nella legge Draghi, quindi se dobbiamo andare a prendere quel vangelo, chiamiamolo così, come auspicato dalla Commissione europea nel parere motivato del 16 novembre, diventa anche probabilmente necessario far capire a questa nuova maggioranza che c'è un nuovo concetto che deve essere, ovviamente, espresso, cioè quello di non parcellizzare le aziende. Questo è un fatto grave. Poi ci sono altre questioni, quindi l'hai spiegato in modo, hai fatto capire, anche quanto vale il livello, diciamo, di occupazione di questa progettualità, quanto di sostenibile, bilancio sostenibile, quindi quanto l'azienda lavora all'esterno, quanto dà come valore aggiunto all'ente che non mette un centesimo per fare alcune attività, quindi se le andiamo a parcellizzare, uno, non sappiamo più conteggiarle, due, non collaboreremo più con nessuno, tre, creeremo una serie di altre strutture che faticano a stare sul mercato, perché ricordiamo adesso noi dobbiamo potenziare questo settore. Ci sono altre realtà, mi viene in mente, prima di dare la parola a Roberto Marin e poi alle regioni presenti proprio su questo tema per far capire lo spaccato italiano, ci sono realtà al contrario invece, dove, che cosa facciamo? facciamo una pianificazione turistica delle aree devaniali espansiva e poi andiamo ad escludere le aziende che hanno fatto veramente del loro mestiere, quindi il turismo negli anni lo hanno fatto con grandissima qualità e soprattutto con grande attenzione servendo milioni, forse diversi milioni di turisti, per esempio mi riferisco al caso Iesolo che seguiamo con particolare attenzione, quindi su quella vicenda è chiaro, noi stiamo vigilando da 14 mesi, credo ormai sono gli amici di Iesolo presenti, stiamo vigilando da 14 mesi perché è un meccanismo, è un sistema che non può essere avvalorato in quanto ci andrebbe a creare una preclusione di partecipazione alla competitività, immaginiamo una pianificazione di 4 km di fronte mare, le 10, 5, 6, 7 aziende all'interno sarebbero avulse da ogni schema di partecipazione anche a future gare o a istanze di parte e via dicendo, quindi questo per noi lo abbiamo espresso a Bruxelles in Commissione Europea, la Commissione Europea era talmente attuale il 24 ottobre quando siamo andati che la Commissione Europea ci ha risposto ieri, lo dico così per iscritto, dicendo che siccome il Governo ha preso 4 mesi di tempo vi risponderemo, allora la domanda viene da sé, dico ma allora che ci siamo andati a fare? A cosa serve la Commissione Petizioni? Quindi questa è una riflessione che ho fatto ieri anche con gli amici qui presenti, con qualche amico. Quindi però, detto questo, io andrei avanti perché i lavori sono un po' contingentati, andrei avanti e lascerei la parola a Roberto Perini in un intervento breve sul tema della... Come vuoi Roberto? Prego, prego, vieni. E poi lasciamo la parola alle regioni, ovviamente alla regione Lazio e alla regione Calabria, presente per conto del Presidente Occhiuto, l'Onorevole Giannetta. Gianmetta, che chiedo scusa. Prego Roberto. Grazie, grazie Presidente. Presentiamo l'azienda che rappresenti, così per far capire quale tipo di modello in qualche modo noi rappresentiamo. Lignano l'avete capito, adesso capirete la GIT. Chi siamo? Grado Impianti Turistici è una società un po' onomera nel panorama nazionale, direi, perché è sì una società per azioni, ma è una società interamente a Capitale Pubblico, nata nel 2001 anche con una compartecipazione di Capitale Privato, nata assieme a Lisa, gesto delle due società d'area di Grado e di Lignano del Friuli Venezia Giulia, che hanno un po' ereditato quelle che erano le agenzie regionali che gestivano il turismo, le vecchie aziende autonome, le aziende di promozione turistice, le Aiat e via discorrendo. Noi abbiamo, dopodiché, un po' fatto fuoriuscire con fase di ricapitalizzazione l'intervento privato, che non ha seguito la parte di Capitale Pubblico, perché è nata sia una S.P.A., però sulla base di un accordo sindacale politico, dove di fatto c'era prima le APT che perdevano un miliardo di lire all'anno, abbiamo trasformato le APT in società per azioni con accordo sindacale con stesso numero di dipendenti e tutto. Quindi abbiamo praticamente portato in una società per azioni e soggetta a obblighi di bilancio, a codice civile, che è una perdita strutturale di un miliardo di vecchie lire, è diventato poi un miliardo e mezzo di euro, per cui i paradossi della politica che stiamo ancora subendo, li abbiamo rimediati, ma stiamo ancora subendo. Ma perché la mia presenza qui? Oggi lo dico chiaramente, Presidente, visto che ci sono innumerevoli molti colleghi da tutta Italia, illustri giuristi, ma soprattutto la rappresentanza sindacale di Ferrer Baneari, di quello che sta accadendo. Perché un cappello politico io lo devo fare, tu sei molto buono, Presidente, nei confronti della politica, forse lo siamo tutti noi, perché siamo forse, io vengo dal mondo della politica, oggi sono CEO, sono Presidente, ma vengo dal mondo della politica, ho fatto il sindaco, ho fatto l'amministratore pubblico, ho fatto il consigliere regionale, e quindi un po' nemastico di questo mondo. Ma la Bolkistan non è di ieri, gli avvisi non sono dell'altro ieri, professore. e quindi la politica ha una grossa responsabilità in questo campo. E come ha la responsabilità, oggi ha l'obbligo e la responsabilità di dare risposta a questo mondo. E io sono contento di aver visto e sentito questa comunione di intenti oggi da parte del nostro, del mio governo, del nostro governo, del governo di molti, insomma, del governo degli italiani, dei nostri rappresentanti politici. Ma onestamente venire a questo convegno a Roma in questa sede e sentire che stiamo aspettando il 6-7 maggio la sentenza del Consiglio di Stato io non sorrido ma scusate il termine mi incazzo perché non è pensabile urlare allo scandalo quando c'è un'ingerenza dell'organismo della magistratura perché entra a gamba attesa nell'organo legislativo e quindi ci arrabbiamo urliamo allo scandalo la politica si inalbera di fatto però cosa facciamo o cosa fa la politica attende gli esiti degli eventi e delle sentenze allora continuiamo nella logica e nella politica che le determinazioni del nostro lavoro le nostre aziende il nostro futuro non dipende da scelte politiche concertate che arrivano da base di esperienze centenarie cinquantenarie centenarie da parte di un'azienda come quella di Grado ma aspettiamo le sentenze per dopo adeguarci no non è il massimo è un paradosso è un assurdo io personalmente non l'accetto e su questo mi auguro che non lo possa accettare neanche l'associazione alla quale io sono iscritto presidente perché questo dovrebbe essere un segnale molto chiaro da questo punto di vista e su questo io che sono una società pubblica non transito perché ho degli obblighi ho 180 dipendenti ai quali devo dare risposte che un privato non gli darebbe che un privato non gli darebbe io ho una società che posso gestire con cento persone produco utili ma proprio perché produco utili e i miei azionisti pubblici mi permettono di rinvestire abbiamo anche un bilancio sociale e quindi andiamo in quella direzione cosa che va nel rispetto del principio sacrosanto della pubblica utilità dell'unità pubblicistica che insita nel bene demagnale cosa che stiamo perdendo completamente di vista anche a livello nazionale perché ho sentito parlare anche con colleghi oggi questa mattina di aste mi viene la pelle d'oca quando sento parlare di un'asta su un bene demagnale perché tutti quanti noi sappiamo il sangue che mettiamo dentro quelle aziende la fatica il sacrificio che hanno messo generazioni per arrivare a questi risultati e quindi l'asta intesa come un'evoluzione del nostro sistema ma in quella blu economy sulla base dei principi che si stanno attuando quella blu economy non ci sarà e ve lo dico perché e arrivo e concludo anche al tema specifico della mia presenza oggi di quello che sta accadendo nel nord est voi lo state vivendo in Veneto noi lo stiamo vivendo in Friuli Venezia Giulia in questo momento da organismi poi che non sono neanche organismi politici cioè noi abbiamo un'amministrazione commissariata beh ormai il Grado penso abbia il Guinness dico io ho finito il sindaco Grado nel 2007 ci sono succedute cinque amministrazioni e decadute cinque commissari questa è l'ennesima e ci sono siamo a elezioni a maggio e proprio per evitare di non essere più gestito e io lo dico senza nessun problema da incompetenti anche dal punto di vista tecnico e burocratico mi risolvo il problema da solo mi sono candidato a sindaco così magari mi auguro di riuscire a mettere in sicurezza un sistema con cognizione di causa e con l'ausilio di professionisti che hanno le capacità per affrontare queste tematiche mettendo in salvaguardia un sistema estremamente importante ma la nostra società che ha cent'anni di storia arriva da Francesco Giuseppe la spazio imperiale nel 904 una spiaggia in proprietà noi abbiamo ancora la laguna di grado in proprietà tavolare se le acque sono in proprietà ancora riconosciute dallo Stato così lo era la spiaggia dopo quando è subentrato lo Stato italiano perché eravamo chiaramente impero osburgico in quelle aree lo Stato italiano ha richiesto indietro queste aree sono state devolute al demanio pubblico statale in contropartita di una concessione sessantennale più altri 25 di prelazione successivamente di spiaggia legge me chiusa questo è accaduto si sono succedute le gestioni con l'ente tre venezia le aziende autonome insomma tutto il mondo globale e siamo arrivati dopo le società d'area istituite e cosa che continuiamo a fare una concessione in vigore professore lo dico perché noi siamo prelettanti in Italia le famose concessioni al 2033 che sono state rilasciate dal comune di Grado e forse perché siamo all'estrema periferia di questa di questa bellissima penisola però di fatto a differenza di tutta Italia quelle concessioni al 33 non sono state impugnate da Raseco quindi di fatto io ho un titolo difficilmente sostenibile di fronte no però io ho un titolo del 2033 sulla quale e sulla base del quale la mia società ha fatto degli investimenti e abbiamo spinto su questi investimenti proprio per arrivare a un punto di deterrente rispetto a qualsiasi procedura di gara e quindi porre di fronte a chi vuole entrare in concorrenza chiaramente un bagaglio e un patrimonio estremamente importante sia gli investimenti passati attuali e futuri cosa che però diventa assolutamente irrilevante in questo momento perché una struttura commissariale e il commissario ha dalla mattina alla sera fatto una delibera in cui ha messo a gara tutte le concessioni tra cui anche quella della grado impianti di cui il comune è socio e azionista della stessa società una società è una delibera di fatto che apre immediatamente esecutiva fatta 20 giorni fa che apre su istanza di terzi i bandi delle concessioni del maniale noi abbiamo un chilometro e otto di arenile 180 dipendenti 8.000 lettini 4.000 ombrelloni un impianto termale un parco acquatico insomma una cosa direi importante volumi fatturato insomma importante e volano per l'economia perché perché noi l'economia l'attuiamo per l'esime statutario essendo una società pubblica abbiamo un'interazione col territorio che nessun altro farebbe a quel punto no? e quindi di questo andiamo anche orgogliosi ma però ci apre una gestione unitaria da secoli da un secolo che ha dato e realizzato e sviluppato un intero territorio non solo grado ma sviluppato il turismo nel frio di Venezia e Giulia assieme a Lignano Sabbiadono che però di fatto è suddivisa oggi in 13 UMI sulle quali unità minime di intervento 13 il famoso spacchettamento ognuna dotata di una sua autonomia funzionale cioè nel senso corpo servizi servizi igienici bar ristorazione area sportiva quindi la blu economy con queste procedure con questi indirizzi noi abbiamo tutte le aree di elettrospiaggia che sono aree comunali in diritto di superficie in gestione nostra insomma voglio dire la storia dove abbiamo i servizi abbiamo gli ingressi spiaggia opere monumentali oltretutto sottoposte a vincolo monumentale da parte della sovrintendenza abbiamo i servizi igienici abbiamo la ristorazione per cui non incidiamo nel vero e proprio ambito demaniale ma incidiamo negli ambiti di elettrospiaggia cosa che una nuova concessione chiaramente non attuerebbe andando chiaramente a scapito dell'impatto ambientale e della tutela naturalistica di ambiti che sono estremamente significativi e importanti e tutti i dirigenti dello Stato che hanno dove la politica anche lì è stata zitta che sono stati diffidati non tanti mesi fa no dall'autorità giudiziaria ad andare in applicazione di una norma che non era nemmeno approvata ancora dal Senato ce la ricordiamo quel passaggio e su quel passaggio i dirigenti comunali e regionali non si sono mosse sono ancora fermi radicati su quel passaggio e sentire oggi di attendere a distanza di anni un provvedimento che forse arriverà a maggio io domani sono a gara domani io ve lo dico chiunque di voi chiunque di voi vi ho dato alcuni dati di bilancio di quella società che gestita pubblicamente ha dei grandi risultati gestita privatamente potrebbe avere risultati cioè senza limiti va bene ognuno di voi può partecipare domani mattina e presentare un'istanza di interesse nella mia concessione allora perché? perché c'è la paura che un dirigente incorra in un danno erariale allora lì la politica deve intervenire io posso anche non dare torto a un dirigente mi guardo mi manca un anno e mezzo alla pensione mi mancano due anni alla pensione vabbè di cosa parliamo non rischio niente per nessuno è insito nella natura umana probabilmente questa cosa anche se non giustificabile dal punto di vista etico e professionale e quindi questo accade allora se la politica non interviene in questo con norme di tutela cioè i comuni noi sappiamo non possono andare a gara senza i criteri non è vero perché da l'altra parte c'è la spada di Damocle del danno erariale della paura del dirigente che mette a gara le concessioni allora se lo Stato se la politica non interviene da questo punto di vista noi nell'arco di un mese due mesi 6 maggio o 7 maggio sentenza del Consiglio di Stato o meno metà dei dirigenti metteranno a gara le nostre concessioni con criteri completamente avulsi dalle realtà con criteri di formi e diversi su tutto il territorio nazionale che vi imporranno e che ci stanno imponendo di andare a fare un altro lavoro rispetto a quello che noi oggi facciamo perché ci stanno trasformando in agenzie di viaggio in agenzie di eventi in agenzie di animazione in fast food in protezione del chilometri zero in eventi culturali cioè tutto quello dove il pubblico magari è carente che intravede la possibilità di affidare a soggetti terzi che ci può anche stare bene ma sulla base di quei criteri dovete presentare le gare in 30 60 giorni e dove probabilmente le capacità le potenzialità dei singoli concessionari in Italia al di là dei consorzi se si faranno se si metteranno insieme rispetto lo state vivendo in Veneto sappiamo cosa capita non riusciamo a concorrere e perderemo le concessioni un bene un male per il sistema turistico nazionale forse sì forse no ma non possiamo pensare di buttare nel cesso scusatemi il termine una storia centenaria di strutture e di aziende e di famiglie che hanno fatto la storia del turismo in Italia ecco quindi questo è il mio appello è l'appello che faccio al nostro presidente l'appello che faccio a tutti quanti voi è che faccio alla politica una politica che non può esimersi dalle proprie responsabilità che oggi le ha tutte indipendentemente da chi governa grazie Roberto noi ti ringraziamo perché io ci tenevo a far in modo tale che questo intervento fosse oggi in calendario il tuo intervento perché fa capire che cosa è un modello che oggi potrebbe avere la fine se la politica attende noi la politica l'abbiamo detto più volte poi la politica ovviamente in modo unitario ci dice bisogna attendere la sentenza del noi non interverremo però intanto facciamo il tavolo questo è un purtroppo devo devo dirla e neanche puoi andare in contrapposizione perché è questo l'unico governo che abbiamo per poter ragionare altri governi non lo hanno fatto ci hanno lasciato in una condizione che è questa attuale ripeto ho i capelli bianchi non ce l'avevo quindi 15 anni fa parlavamo delle stesse cose oggi questo governo è l'unico governo accreditato per fare ci chiedono un mese di tempo io lo so domani c'è la gara domani c'è la gara questo è il nostro problema ecco perché ma io se hai sentito prima ho chiesto timidamente se possiamo intervenire prima timidamente poi dice sai vediamo certo se intervenissimo prima con un provvedimento normativo avremmo l'abbiamo detto prima di mattina ma dopo arriverà il ricorso di quello che sta preparando esattamente arriverà il ricorso mio arriverà esatto no no non c'è il mio in bocca al lupo in bocca al lupo a te per la candidatura allora io a questo punto Stefano se tu sei d'accordo farei intervenire le regioni in ordine ovviamente di ah Roberto va bene Roberto Angelilli vicepresidente della regione poi l'onorevole Giammetta vi chiedo davvero scusa sì direi che si sente credo vi chiedo scusa ma abbiamo il consiglio regionale oggi c'è una una legge importante che dobbiamo votare sul garante per la disabilità e quindi diciamo credo doveroso essere come consigliere presente tra l'altro in questo caso invece rappresento il presidente della regione Lazio Francesco Rocca che mi ha delegato a partecipare ai lavori ma con Marco Maurelli ci sentiamo costantemente anche perché ci conosciamo da tanti anni siamo da tanti anni sulla stessa parte della barricata oggi io parlo da vicepresidente della regione Lazio e assessore allo sviluppo economico alle attività produttive e anche alla blu economy e diciamo ho proprio come competenza quella delle concessioni però ci conosciamo con Marco da lui diceva da 15 anni io sono come dire sul pezzo per quanto riguarda la Volkestein dal 2004 quindi veramente sono passati 20 anni dal 2004 perché allora ero al Parlamento europeo e quindi venne fuori questa direttiva che non so se vi ricordate era la cosiddetta direttiva diciamo Volkestein Frankestein perché qual era la battuta la battuta è che questa direttiva entrava a gamba tesa nel settore in particolare delle concessioni balneari creando una sorta di spezzatino quindi mettendo tutto il settore alla mercè di interessi di logiche di dinamiche che nulla hanno a che vedere con la specificità del nostro sistema economico produttivo con il nostro territorio con le caratteristiche peculiari delle aziende che ci sono in Italia parlo per il Lazio noi abbiamo più di mille aziende in questo settore più di mille quindi stiamo parlando di un pezzo dell'economia del Lazio e il Lazio è la seconda economia italiana quindi parliamo di un numero di imprese importanti ma non è una solo una questione di imprese e non è soltanto una questione di lavoratori e fermo restando che noi siamo qui per tutelare imprese e lavoratori è una questione di sviluppo economico soprattutto in questo momento in cui la blu economy a 360 gradi è un settore in crescita competitivo sfidante innovativo all'avanguardia è un tema proprio di sviluppo economico è un tema di anche tutela del territorio perché parliamo di imprenditori che presidiano il territorio e che lottano insieme alle istituzioni contro tanti fenomeni che sono magari anche fenomeni connessi all'erosione costiera diciamo a quello che può essere il degrado di un territorio quando un territorio è lasciato a se stesso e quindi sono presidi territoriali preziosissimi proprio per la tutela del territorio quindi sono vent'anni che siamo in battaglia in particolare dal 2006 fu approvata la direttiva servizi l'allora governo ma non ne faccio una questione di politica nonostante ovviamente rappresento anche la politica però non c'è stata poi la forza la determinazione di prendere veramente di petto la situazione quindi si è andati di proroga in proroga per carità io voglio vedere pure il bicchiere mezzo fiveno queste proroghe in attesa della soluzione hanno determinato un tempo in cui comunque le aziende hanno potuto lavorare senza questa spada di damocle delle aste quindi diciamo che nel tempo si è fatto quello che si poteva fare adesso però è arrivato il momento di prendere una decisione anche perché c'è un caos c'è un caos io ieri ho radunato tutti i sindaci dei comuni costieri del Lazio siamo tutti dalla stessa parte della barricata ma c'è come dire non voglio dire disperazione anche da parte delle istituzioni però quasi quindi le imprese sono in estrema difficoltà ma anche le istituzioni cosa dobbiamo fare noi abbiamo costituito a livello nazionale un coordinamento presieduto dalla Liguria Marco Maurelli lo sa abbiamo tentato in tutti i modi consultando tutti gli uffici legislativi servizi giuridici le associazioni entro il dicembre del 23 il 31 dicembre di emettere un provvedimento ma non ci è stato consentito perché è impossibile perché ci sono troppi attori cioè c'è l'antitrust il Tar Consiglio di Stato a parte la Commissione Europea persino il Presidente della Repubblica è intervenuto attenzione nel discorso ma lo sapete meglio di me nel discorso di fine anno è una cosa forse penso forte direi forte e anche inaspettata vi dico è stato un pezzo inaspettato del discorso ma non è che lo dico io o magari lo dite voi diciamo gli addetti ai lavori al Mimit erano tutti come dire sorpresi che facciamo adesso cioè se il Presidente della Repubblica lancia un messaggio così forte è un grosso problema dobbiamo fare i conti con quel messaggio quindi però chi è sul territorio quindi le imprese ma anche le istituzioni siamo in difficoltà io ieri ai sindaci non sapevo proprio cosa dire le abbiamo tentate tutte abbiamo fatto ogni tipo di interlocuzione ma anche il Ministero tutto in attesa che la Commissione Europea ci dia un feedback ora chiaramente questa situazione non è sostenibile cioè non c'è da da polemizzare o da non polemizzare è una situazione che non è più sostenibile poi c'è l'altro tema no? la Commissione Europea si sta prendendo il suo tempo ma noi il tempo non ne abbiamo più d'altro canto Marco corraggimi se sbaglio e noi abbiamo lavorato tantissimo a Bruxelles io credo che questa comunque ma non lo dico per difendere nessuno non faccio come dire l'avvocato di nessuno però questa è la prima volta che si è posta una questione in modo netto e chiaro cioè qual è il tema della 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 Corte di Giustizia le risorse naturali sono per definizione scarse questo è un principio giuridico allora è vero perché non è che le coste italiane per quanto ampie siano infinite sono comunque finite ci mancherebbe altro però noi abbiamo voluto dimestrare come governo che è vero che non sono infinite ma ci sono spazi immensi spazi immensi che non sono neanche utilizzati e comunque a fronte di questo principio giuridico per carità importantissimo perché poi le leggi tutelano tutti però noi mettiamo completamente in crisi un sistema economico che è un sistema economico virtuoso virtuoso cioè che funziona che va bene anche diciamo le immagini che abbiamo visto tutti prima ci fanno vedere che è un'impresa organizzata che è un'impresa che funziona che tutela il territorio che è molto performante che è molto sfidante che è molto all'avanguardia quindi non è un settore in crisi non c'è come dire un aspetto anche di di degrado di dispacimento di criticità assolutamente tutto il contrario per cui capisco certamente innanzitutto le imprese ma anche i comuni perché i comuni ci dicono ma noi vogliamo continuare ad offrire dei servizi importanti perché questi servizi attirano gente sia la gente che vive su quel territorio sia la gente dei territori e quindi il turismo la cultura i grandi eventi le fiere questo che vuol dire tutto tutto vuol dire tutto a 360 gradi quindi nessuno di noi vuole rinunciare a questa risuola nessuno non c'è senso non è una cosa accettabile al netto diciamo dell'ennesimo sfogo però va sicuro che noi siamo stati sempre sempre proprio operativi attivi le abbiamo tentate di tutti i colori adesso io voglio sperare che i tempi siano brevi voglio sperare non vi dico che sono certa però voglio sperare perché è nell'interesse di tutti compresa della Commissione Europea fare chiarezza su questa cosa quindi con questo vi dico che dobbiamo mantenere come dire dobbiamo però Marco ha detto una cosa giusta io conosco il suo lavoro il suo impegno e anche talvolta la sua rabbia il suo disappunto perché le cose non si sbloccano però il senso di responsabilità ma non lo dico così per dire cioè se noi adesso ci lasciamo prendere tutti ognuno nel suo ruolo al disappunto alla rabbia alla costernazione in questo momento sarebbe una mossa sbagliata sbagliata attendiamo manca un mese quanto manca più o meno speriamo manca poco attendiamo e poi dobbiamo essere ottimisti per forza e comunque dobbiamo poi essere pronti io spero che non dovremmo essere pronti a tutto cioè spero che ci sia una via d'uscita ragionevole ci deve essere bisogna trovare il modo perché e penso che anche i burocrati di Bruxelles cioè devono comprendere che c'è una realtà vera attiva che è positiva e quindi cioè se l'Europa serve a qualcosa e io lo dico anche adesso che ci sono le elezioni europee cioè l'Europa ha dimostrato che può servire a qualcosa l'ha dimostrato sotto covid quando all'inizio del covid la commissione europea disse ok faremo una grande strategia vi diamo 200 milioni di euro a 27 stati membri 200 milioni di euro cioè da ridere no quindi spesso la commissione europea come dire ha questi episodi di umorismo involontario 200 milioni di euro sotto covid significava 5 milioni di euro per l'Italia che vi devo aggiungere siete imprenditori addetti ai lavori 5 milioni di euro per 60 milioni di cittadini imprese una cosa veramente ridicola però poi a furor di popolo dopo due mesi da 200 milioni di euro siamo passati a 750 miliardi 750 miliardi allora dico ok ho capito a cosa serve l'Europa cioè mi stai dando una risposta stai facendo qualcosa che io capisco perché 750 milioni di euro buoni progetti alcuni belli alcuni così così però ho capito mi stai dando 750 miliardi di euro e quindi io ci farò qualcosa poi dipende pure da me farci qualcosa di buono tu mi dai l'opzione l'opportunità la chance io devo fare il meglio quindi bisogna essere tutti proattivi però lì ho capito che cosa serve essere in Europa adesso voglio capire anche in questo senso a cosa serve cioè serve ad essere di supporto al sistema produttivo al territorio ai cittadini oppure al servizio come dire soltanto dei codici della burocrazia dei trattati bellissimi sacrosanti lo ripeto la legge è la prima cosa ok però bisogna anche guardare alla realtà la realtà produttiva la realtà vera la realtà del territorio comunque sicuramente siamo saremo qui e diciamo da questo punto di vista continueremo a sentirci un'unica grande squadra grazie e scusate se vi dovrò lasciare ti ringrazio ti ringrazio perché ovviamente noi abbiamo affrontato la cosiddetta petizione proprio con su iniziativa di Roberta nel 2014 nel 2015 andammo a discuterla siamo nel 2024 ti dico ti do la risposta della commissione per iscritto ieri mattina siccome il governo abbiamo dato quattro mesi di tempo adesso aspettate a me francamente viene da pensare come dicevi tu la commissione che ci siamo andati a fare abbiamo aspettato tutto questo tempo dal 2015 al 2024 eravamo noi era gennaio fine gennaio febbraio 2015 risposta zero le uniche risposte che abbiamo ottenuto sono quelle che hanno poi generato le istanze la legge regionale 21 del 2016 per la Toscana che ci ha ben utilizzato per gli atti formali io sono andato a rivedermi esattamente come loro avevano disciplinato ho chiesto abbiamo utilizzato la petizione vostra era citata infatti era citata almeno per quella cosa siamo stati funzionali oggi però quella roba è antiquata perché lo stiamo vedendo in realtà come dicevo prima come Jesolo dove la mattina ti alzi presentano un'istanza di parte fanno una pianificazione espansiva anzi addirittura qualcuno prima della organizzazione del PPA di Jesolo ha pensato sei mesi prima che forse se presentava una domanda su un ambito di due chilometri forse il PPA lo avrebbe approvato con due chilometri non so se mi spiego i criteri sono usciti dopo quindi qui dobbiamo mettere anche ordine perché poi dopo l'ordine sta anche nel nostro sistema nel metodo di approccio che utilizziamo se dobbiamo andare ogni volta a ricorrere a spiegare con i nostri avvocati che non va bene che si aiutano a casa imprese patrimonio di un territorio da 50-60 anni famiglie che lavorano su quello per arrivare a modelli super strutturati nuovi che cacciano quella roba lì francamente noi preferiamo tenerci quella roba lì scusate come l'ho chiamata impropriamente io preferiamo tenercela perché è un modello organizzato che funziona e se messo in rete può fare un progetto anche di Blue Economy in serio tu ci stai lavorando bene noi sappiamo la tua dedizione e ti ringraziamo per quanto riguarda la regione Lazio ci faremo sentire presto perché c'è una proposta che ti manderemo sulla Blue Economy perché è importantissima grazie 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 per la presenza grazie grazie la regione Calabria a questo punto l'onorevole Giammetta è in rappresentanza del presidente Occhiuto in cui ci siamo sentiti qualche giorno fa abbiamo avviato un percorso insomma poi lo dirà meglio buongiorno a tutti bene il tema è sicuramente interessante delicato a tratti anche ostico ecco perché la Calabria la regione Calabria non vuole sottrarsi alle proprie responsabilità di contributo in una discussione così articolata io credo che la sintesi del ragionamento odierno almeno per quanto mi riguarda è rappresentata dal grido d'allarme dell'imprenditore e quindi ognuno deve anche assumersi le responsabilità per le quali è chiamato appunto ad agire quotidianamente e costantemente nel proprio operato beh la Calabria è sicuramente una regione straordinaria è una delle poche regioni bagnate da due mari quindi figuratevi quanto interesse possiamo avere noi come regione a portare avanti delle risoluzioni per il Baleari è una regione che però nonostante alla forza di avere come dire l'opportunità di essere appunto bagnata da due mari per fin troppo tempo è stata abbandonata al proprio destino e devo dire la verità con un'operazione di una narrazione diversa della stessa Calabria portata avanti dal governo regionale e dal presidente Occhiuto ovviamente dobbiamo anche essere conseguenziali con quelli che sono gli atti normativi a volte di competenza regionali altre volte no allora il significato e il senso del ragionamento quale vuole essere è che sicuramente gli imprenditori non devono essere abbandonati e che sicuramente alle istituzioni giova il suggerimento e le conoscenze degli imprenditori per poter uniformare una normativa particolare armonizzare dico io in ambito nazionale tutti quei dettati normativi che altrimenti rischiano come dire di lasciare a ogni regione ogni singolo comune un'interpretazione molto spesso sbagliata quindi il senso è appunto questo e allora noi che cosa abbiamo fatto come regione abbiamo rispolverato una vecchia legge che è la 17 del 2005 che diceva appunto in quella legge di istituire un comitato consultivo composto da il direttore del dipartimento regionale alcuni comuni delegati del lanci alcuni cinque sindaci nel tentativo di uniformare appunto come dicevo prima i dettati normativi e quindi immaginare di fare qualcosa di buono per il nostro territorio abbiamo fatto di più perché con una mozione la numero 74 nella previsione appunto dell'armonizzazione necessaria ed obbligatoria per la gestione del demanio marittimo è stata approvata all'unanimità in consiglio quindi da maggioranza e d'opposizione portata avanti dal presidente del consiglio proprio per dare manforte ai fedeli balneari e tutto questo è stato reso possibile perché dobbiamo dare onore al merito a chi ci ha dato sostegno di manforte in questo grazie alla costruttiva collaborazione di fedeli balneari perché presidente i tuoi riferimenti regionali in calabria sono veramente molto attivi e sono qua presenti attenti che ci ascoltano e che giustamente hanno ci hanno dato manforte quindi questo è anche un esempio di come le associazioni le il tessuto imprenditoriale le istituzioni si possono mettere insieme e cercare di risolvere diciamo laddove si può qualche qualche problema e questa struttura operativa è diciamo dovrà essere poi presente all'interno del dipartimento regionale e noi proprio qualche giorno fa su input dei rappresentanti regionali calabresi abbiamo sentito il presidente occhiuto che ha dato grandissima disponibilità e segnali di apertura al presidente maurelli per cercare di addivenire a qualche soluzione anche perché guardate io qua ho qualche dato bisogna considerare che la Calabria ha circa 800 chilometri di costa esattamente 788 virgola 92 e sono suddivisi su 116 comuni costieri di cui ben 90 non dispongono di piano comunale di spiaggia quindi ancora siamo all'anno zero da questo punto di vista e i restanti 26 adottano piani spesso carenti che non rispondono a quei fondamenti dettati normativi di cui facevo riferimento prima che sono dettati appunto dal piano di indirizzo regionale e quindi la cosa importante è che in questo riordine del settore nessuno si deve sentire escluso e nessuno deve escludere l'altro perché tutti quanti insieme forse possiamo raggiungere il risultato sperato e allora che cosa mi viene da pensare ma a chi abbiamo a favore e chi abbiamo contro in questo ragionamento in questo percorso tortuoso vorrei immaginare che visto che ho sentito prima che la commissione europea non fosse contro di noi almeno che non ci sono le solite lobby che poi costringono determinate situazioni e mi assumo la responsabilità di quello che dico a mettere magari il cosiddetto bastone tra le ruote ecco che l'Italia in questo senso si deve dimostrare una e unita e non un'Italia che cammina a due velocità per poter portare avanti un ragionamento del genere e credo che lo scopo appunto di questa riunione nazionale definiamola così come momento di discussione abbia appunto questa finalità la finalità di andare tutti avanti e portare avanti come dire un percorso che ci vedrà ognuno per le proprie competenze protagonisti per dare finalmente mi avvia le conclusioni a tutti i nostri meravigliosi comuni quelle opportunità che meritano di avere perché non si può prescindere dal non sostenere il mondo del balneari in una penisola come la nostra che è l'Italia e che ovviamente non ha le stesse caratteristiche per così dire di altre nazioni in Europa ed ecco perché qualcuno che mi ha preceduto ha detto non bisogna calare le normative ad hoc e come dire tutti allo stesso modo perché ogni nazione poi ha le sue caratteristiche e devo dire che nella fattispecie questo è l'esempio che conferma la regola quindi diamoci da fare noi saremo al vostro fianco per quello che ci può competere e speriamo che le soluzioni possono non tardare ad arrivare grazie 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 onorevole un ringraziamento anche al presidente Occhiuto che insomma ci ha ascoltato è di buon senso quella proposta sulla commissione per l'articolo 21 della legge regionale 17 credo che sia di buon senso hanno fatto un lavoro eccezionale gli amici che poi sono di reggio che sono qui in sala e ci siamo sentiti in tutte le ore in ogni momento però era il momento di farlo per mettere proprio ordine quindi la necessità di ordinare e di dire ai comuni guardate che c'è tutto un sistema che deve essere preordinato precostituito prima di arrivare alla soluzione attendiamo e vediamo intanto vigiliamo e addirittura mi sembra che la prerogativa mi dicevano ma penso che confermerai del presidente Occhiuto sia quella di occuparsi di risolvere anche tutte le criticità sui servizi che mancano sui servizi intendo quelli collegati al territorio assolutamente e dico questo veramente concludo noi abbiamo oltre a quello abbiamo fatto un'operazione di marketing di spiegamento di forze in campo mai avvenute fino adesso in quella che è il contrasto contro l'inquinamento ambientale e la depurazione cioè noi stiamo facendo delle operazioni proprio perché crediamo in un settore trainante proprio per la nostra regione quindi sfondate una porta aperta noi siamo disponibili al dialogo da ogni punto di vista come dicevo grazie a tutti grazie veramente grazie allora io andrei andrei rapidamente avanti chiederei un contributo anche alla campagna che è presente nella campagna quindi nostro avvocato Ciccarelli e poi dopo lascerei la parola in massima sintesi Domenico se è possibile così in modo che riprendiamo ragionamento sullo spacchettamento perché c'è la parentesi e poi riprendiamo il tema del turismo sulla parte di Italian Blue Route non me ne vogliano gli amici del turismo ma temi ancillari prego buongiorno buongiorno a tutti giusto due parole insomma qualche aggiornamento recente ed è proprio di ieri purtroppo una sentenza del TAR Catanzaro che sul tema delle concessioni dei maniali in particolar modo sul comune di Soverato ancora una volta perché si era già soffermato qualche tempo fa sulla stessa dinamica ha ritenuto illegittima l'estensione al 2024 delle concessioni dei maniali quindi ha annullato la delibera giuntale del comune di Soverato che è stato uno dei primi comuni ad intervenire in materia e addirittura il TAR ha ben pensato di andare oltre quindi è entrato in quell'ottica della valutazione quantitativa e qualitativa nel senso che si è soffermato addirittura nel rappresentare che l'interesse del concessionario di Soverato poteva essere riferito solo a quel comune quindi non all'intero territorio della linea di costa calabrese perché era un comune ad alta valenza turistica questo giusto per rappresentare quello che si sta verificando e la difficoltà ad affrontare il tema sia dal lato della pubblica amministrazione che dal lato del concessionario allo stesso modo quattro giorni fa la Gcom propone l'ennesimo ricorso nei confronti del comune di Ginosa per l'adozione anche in quel caso della famosa estensione al 2024 delle concessioni dei maniali e insomma potrei andare avanti così per tantissimo tempo è evidente che viviamo in un clima di profonda incertezza dove il concessionario che può essere qualificato a mio avviso come la sentinella la prima sentinella proprio insomma della tutela dell'ambiente e del vincolo insistente sulla linea di costa italiana perché tante volte il vincolo e la tutela ambientale è stata letta come un qualcosa di bloccante per l'economia nazionale per l'economia del concessionario se vogliamo ma in realtà io vedo il vincolo e la tutela come strumento di sviluppo del business quindi il business come il vincolo come opportunità quindi come crescita di un turismo sostenibile proprio nella direzione in cui siamo proiettati cioè quella della blue economy pertanto il concessionario rappresenta attraverso le buone prassi attraverso uno sviluppo sostenibile della propria attività di impresa il il primo rappresentante della tutela della linea di costa nazionale è evidente che interventi di questa natura sono bloccanti interventi intendo dire quelli giurisprudenziali quelli insomma che purtroppo ancora attendiamo da parte di una giurisprudenza che è proiettata verso la mera tutela della concorrenza dimenticando però che si incontrano altri limiti una volta che noi andiamo a stabilire che la delibera del comune di soverato è illegittima un attimo dopo il concessionario diviene abusivo quindi si può trovare la capitaneria a fare un controllo di polizia giudiziaria che è giusto che faccia perché è il suo lavoro e troverà un concessionario che purtroppo non è non ha titolo per l'occupazione del bene perché il Tarra ha annullato non solo la delibera ma anche le licenze di concessione rilasciate gli atti suppletivi ricognitori dichiarativi così definiti rilasciate a copertura e periodo primo gennaio 2024 31 dicembre 2024 creando un vulnus quindi il problema reale è ora cosa accade a quei concessionari l'economia il turismo nel territorio l'indotto in che modo verrà ovviamente tutelato da questa sentenza così importante sicuramente il comune di Soverato si appellerà e quindi ricorrerà in consiglio di stato ed è evidente che chiederà anche un provvedimento di sospensiva una sospensiva quindi una domanda cautelare perché è ovvio che da oggi sono tutti occupanti si ne titolo quindi è evidente che insomma si bloccherebbe l'economia dell'intero territorio anche perché la stagione balneare ha soverato e è cominciata il 7 aprile quindi in piena attività vi ho voluto riportare questo esempio perché è proprio quello più fresco cioè di ieri quindi insomma non ho avuto nemmeno il tempo di deteriorarsi nelle ultime 24 ore per farvi capire a che situazione ovviamente è esposto il concessionario ma ora vorrei guardarla anche per un secondo al lato della pubblica amministrazione mi sono trovato insomma a dover redigere dei bandi o meglio delle bozze di bando quindi definiamoli bandi impropriamente quindi avvisi pubblici ex articolo 18 regolamento di esecuzione a codice di navigazione accompagnati da disciplinari ora è evidente che vengo chiamato a scegliere dei requisiti insomma rispetto ai quali il concessionario deve vedersi attribuito dei punteggi per l'offerta tecnica ma esattamente questi requisiti li scelgo mia sponte quindi secondo la mia volontà personale anche perché il MIT che penso siano andati via un po' tutti ma il MIT mi ha anche detto come autorità di sistema portuale guarda che non puoi indire le procedure di gara perché mancano i decreti attuativi quindi io da una parte ho il mio ministero vigilante che mi dice che non posso fare le gare dall'altra mi trovo col Tarnapoli e Tar Salerno entrambi dichiarano illegittima la delibera 52-2023 con la quale l'autorità di sistema portuale ha vestito soprattutto nel 2024 la durata delle concessioni di maniera l'inessere quindi delle due luna cioè cosa posso fare il MIT mi dice non posso fare le gare il TAR mi dice che il mio provvedimento di estensione al 2024 è illegittimo io esattamente come ente pubblico non so come muovermi e ciò poi si scontra con altri fenomeni ne abbiamo già parlato in altri casi in altre sedi tipo ad esempio la possibilità di affidare i sensi dei 45 bis alla gestione di alcune attività della concessione dopo aver vinto la gara quindi io vinco Marco gestisce perché chiede un'autorizzazione ex articolo 24 o ancora il famoso subentro ex articolo 46 io vinco la gara Marco subentra la mia concessione quindi in qualche modo determinando nulla di fatto rispetto alla procedura di affidamento o ancora se io mi vedo affidare una concessione determinata in come dire secondo uno specifico progetto e noi sappiamo tutti che ogni anno andiamo a modificare la concessione perché cambia la necessità cambia l'offerta turistica cambia la come dire da un punto di vista estremamente pratico la gestione nello stabilimento e quindi chiediamo un'autorizzazione senza articolo 24 del regolamento che conoscete un po' tutti il famoso modello D3 e così via ma posso variare una concessione che mi è stata affidata e quindi io ho partecipato con altri soggetti per una determinata concessione se poi dopo una volta che me la vedo affidare la vado a modificare in qualche modo è come se andasse a violare un po' la possibilità di concorrere tutti allo stesso modo alla medesima procedura quindi esiste effettivamente una situazione che è complessa sia lato amministrazione pubblica sia lato cittadino inteso come imprenditore operatore economico ma io credo anche dal punto di vista dello stesso legislatore quindi si va bene parlare di concorrenza ma è altrettanto vero che bisognerebbe capire però in che modo operarsi per questa adoperarsi per questa concorrenza esistono delle concessioni che non sono capaci di produrre ricchezza io mi ricordo un intervento dell'ANAC la delibera 1300 se ricordo bene nel 2016 che parlava in materia di impianti sportivi e ci diceva ma guarda che quando l'impianto sportivo è improduttivo non è capace di produrre ricchezza puoi pure fare un affidamento diretto perché voglio dire quindi io immagino la piccola concessione il baretto che ha una piccola occupazione di quel suolo demaniale all'esterno per tavoline e sedie una piccola veranda che ricade su demanio marittimo il resto del bene ricade su proprietà privata il banco tufaceo che è semplicemente leggermente fuori dal livello dell'acqua sul quale si va a realizzare una piattaforma come solarium a chi la diamo magari devo fare tre chilometri di proprietà privata per arrivarci e poi dopo alla fine mi trovo questo piccolo banchetto tufaceo che deve andare in concorrenza e chi altro potrebbe gestirlo quindi c'è un vulnus evidente che va colmato e va colmato necessariamente con una riforma del settore poi da lì toccherà ovviamente al concessionario rappresentare ancora una volta quello che è sempre stato negli anni e cioè la prima sentinella la mattina e l'ultima sentinella la sera della tutela della linea di costa e anche della tutela dell'ambiente e di tutti gli altri vincoli insistenti sulla nostra stupenda penisola perché se non esistesse quella bellezza naturale ovviamente non esisterebbero nemmeno le attività turistiche ad essa collegate quindi vi ringrazio e vi saluto sperando in un futuro prossimo migliore come dire grazie grazie giunarelli per fare un po' la sintesi su quanto detto sul tema spacchettamento sul tema GIT e sul tema ovviamente del codice degli appalti ecco quindi questo per fare un po' chiarezza diciamo più che sintesi chiarezza buongiorno a tutti siamo tutti un po' stanchi forse adesso cercherò di vivacizzare anche perché forse dirò alcune cose che forse non sono non sono graditissime in questa sede però sono abituato a dire quello che penso quindi non muterò queste mie abitudini devo dire che il presidente Marine prima ha già detto alcune cose che mi ripromettivo di dire e che condivido profondamente io credo che sia arrivato il momento di abbandonare gli slogan e di guardare in faccia la realtà questo vale innanzitutto per per chi oggi sta dettando le regole che sono i giudici amministrativi e l'autorità garante la concorrenza del mercato basta leggere la sentenza di soverato ma questa è un'ordinanza del tar veneto di pochissimi giorni fa del 18 aprile e qui si rilegge stancamente circa la necessità di disappricare l'anormativa interna sulle proroghe delle concessioni domaniali marittime contrastate con il diritto europeo quindi avviare procedure di gara usa la parola gara per individuare il nuovo concessionario sulla base di criteri trasparenti obiettivi appaiono conformi all'orientamento della pacifica giurisprudenza formatasi sul punto quindi si ripete oramai stancamente fa tutto disapplicato si devono fare le gare sulla base di quali criteri fare le gare non è detto però si devono fare le gare punto tutto il resto è legittimo mi sembra che soverato si sia detto più o meno la stessa cosa l'autorità garante è ancora più più sbrigativa questo è un parere reso giusto per dare l'idea della della diciamo attualità il 14 marzo 2024 di fronte a un a mio avviso suicidio suicida richiesta di parere fatta da un comune dell'Emilia Romagna in cui si dice il comune è tenuto a svolgere bandi ispirati ai principi che devono ispirare lo svolgimento sto citando lo svolgimento delle gare e i criteri da utilizzare per disposizione i bandi di gara sono stati puntualmente indicati al consiglio di stato 2021 resumendoli dall'articolo 12 della direttiva servizi quindi anche qui slogan cioè enunciazioni indimostrate che però come è stato ricordato prima dal presidente Marin su un dirigente pubblico impattano fortemente molto fortemente perché lo spettro della corte dei conti è quello che agita i suoi sonni più di ogni altra cosa questi sono atteggiamenti oramai ripetuti diciamo quasi in automatico però attenzione c'è anche il rovescio della medaglia che è quello che ricordava prima il presidente Marin cioè questo spazio è stato lasciato ai giudici e all'antitrust è stato lasciato innanzitutto dalla politica scusate ma il nel momento in cui la politica ha abbracciato la diciamo la forma della proroga delle concessioni da tempo immemorabile enunciando volontà riformatrici volontà riformatrici a cui non è mai stato dato seguito questo è il problema quindi anche il fatto che alla commissione europea non ci ascoltino questa è la realtà oppure che i dirigenti degli enti locali che sono quelli che poi devono firmare gli atti siano più propensi a dare peso alle decisioni del tale del Consiglio di Stato e alle lettere che ricevono dall'antitrust piuttosto che a generiche norme che enunciano principi che è dal 2011 che non hanno mai trovato poi concreta attuazione forse non è così sorprendente non solo ma anche io non vorrei che di fronte all'affidamento che oggi si fa sul riconoscimento della non scarsità della risorsa naturale e su quello che questo potrebbe implicare sottostante vi sia l'idea che alla fin fine se si riesce a sfuggire da quel vincolo si possa ritornare a un sistema di proroghe automatiche o a qualcosa di molto simile perché il dubbio che sottostante vi sia questo questa idea è un dubbio a mio avviso fondato cioè il quale sarà il regime dopo una volta che abbiamo ottenuto che la risorsa naturale non è scarsa non è che abbiamo risolto il problema anche dal punto di vista tecnico perché nella sentenza proprio impresa poi il consiglio di stato tutte le volte che si è pronunciato si è detto a fondamento c'è anche l'articolo 49 del trattato di funzionamento dell'Unione Europea non solo l'articolo 12 della Bolkestein quindi quello è un ostacolo che non è saltato ma in ogni caso se non si applica la Bolkestein comunque bisogna capire qual è il regime che si deve applicare e il regime delle proroghe automatiche non è più nel nostro ordinamento anche quello da 12 anni allora abbiamo il coraggio di guardare in faccia la realtà anche perché l'attentativa lo ripeto è quella delle gare pubbliche purché sia applicando i principi se vogliamo come dice questo parere dell'antitrust delle sentenze giambali della questione di Stato allora realisticamente io credo che le associazioni e la politica una forma di procedura a evidenza pubblica che non significa necessariamente gara pubblica ma di una procedura a evidenza pubblica debbano saperla elaborare tra parentesi le procedure a evidenza pubblica sono state in vigore per le concessioni banaliari come per tutte le altre concessioni banali marittime dal 1942 quando è entrata in vigore il codice fino al 2001 se ricordo bene quando è entrata in vigore la prima norma sul rinnovo automatico ma per tutti quegli anni ogni 4 anni prima ogni 6 anni dopo si faceva una procedura a evidenza pubblica significa domanda pubblicata possibilità di domande concorrenti ci sono non ci sono se ci sono si fa una valutazione comparativa questo è stato il regime che ha consentito lo sviluppo del turismo baldeare e di tutte le altre attività sul demagno marittimo in Italia per 40 anni più di 60 anni forse varrebbe la pena seriamente affrontare il tema di un nuovo regime specifico specifico per il demagno marittimo vogliamo per i balneari per i balneari anche le altre tipologie di concessione forse si potrebbe anche immaginare qualcosa di diversificato perché se no si cade poi nel codice di contratti pubblici come è stato ricordato prima dall'onorevole e se cadiamo nel codice di contratti pubblici allora c'è tutta una serie di ricadute criteri una giustizia sterminata su quel che deve essere fatto prima della gara durante la gara dopo la gara limiti alla validità della concessione rilasciata che secondo me non giova alla certezza delle posizioni giuridiche che è quello di cui le imprese hanno bisogno è tutto nero quello che c'è all'orizzonte no se si ha coraggio un esempio è stato anche questo richiamato prima oggi il principio dell'incameramento di cui è l'articolo 49 del codice della navigazione che è quello che fa sì che tutti i beni realizzati dal concessionario vengano incamerati dello Stato senza indennizzo oramai è messo in discussione tra parentesi questo è anche l'aspetto che a mio avviso rende illegittimi tutti i provvedimenti che prevedono oggi delle gare perché delle gare immediate perché e qui cito l'ordinanza del gennaio 2024 della sezione settima del consiglio di Stato giustamente il consiglio di Stato in questo caso ricorda che ha la compatibilità che cito solleva rilevante complessità e non compatibilità comunitaria dell'articolo 49 del codice di navigazione nella parte in cui limita il diritto all'indennizzo aspettato al concessionario su cui attesa la pronuncia dei giudici europei perché è stata rinviata la questione non solo ma dice che anche l'ordinamento nazionale appare decisamente orientato a salvaguardare le ragioni giuridiche ed economiche dei soggetti che hanno realizzato investimenti nelle aree dei maniali in concessione mediante la costruzione di un indennizzo come statuito e qui cita il 118 del 2022 22 costatuzione avente portata sistematica generale che sottolinea in particolare il rilievo degli investimenti e vi rimarco del valore aziendale dell'impresa questo dice il Consiglio di Stato allora cogliamo lo spunto da questi rilievi già acquisiti nel nostro ordinamento per seriamente lavorare su forme di evidenza pubblica e di riconoscimento di indennizi che salvaguardino chi ha operato chi ha ben operato sull'area dei maniali e ha intenzione di continuare a operare in maniera seria e produttiva non bisogna avere paura delle procedure di evidenza pubblica è una strada segnata bisogna invece lavorare sul fatto che il tipo di procedure di evidenza pubblica che deve essere applicato sia tale da appunto riconoscere le posizioni di chi ha gestito quelle aree filo d'ora attenzione perché se non si fa niente se non si fa niente velocemente la la conclusione ancora una volta ce l'ha detta l'antitrust la quale dice sì ma il concessionario uscente ben potrà avere un un indennizzo corrispondente alla quota degli investimenti realizzati e non ancora ammortizzati quindi il ancora una volta il dirigente comunale la coscienza se la se l'avete a posto così le associazioni e mi avviso tutto il mondo della politica deve lavorare velocemente ma gli strumenti e anche i punti di patenza su cui lavorare grazie 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 professore illuminante e soprattutto quindi era importante oggi fare il punto anche sul tema del codice degli appalti perché era una preoccupazione che c'è visto quello che sta succedendo in giro ed effettivamente se non lavoriamo ad un percorso di riordino ma noi abbiamo detto la commissione europea non ci ha risposto il 24 ottobre tuttora ci ha scritto ieri proprio come dicevo ci ha scritto proprio perché noi abbiamo chiesto questo noi abbiamo chiesto questo di essere attenti a identificare una procedura selettiva nel rispetto del codice della navigazione questo abbiamo scritto nero su bianco consegnato quindi siamo pronti su quello esiste funzionato al 42 perché non farlo a determinate condizioni però perché i casi diciamo Friuli Venezia Giulia quindi Grado Lignano per capirci e i casi Iesolo non si possono verificare io domani mattina faccio una questa è una regola fondamentalmente il criterio statale da una parte giusto che ci sia si lavora a questo dall'altra c'è la regola ovviamente della pianificazione turistica Roma pianificazione turistica espansiva domani mattina arriva il po' legato della situazione che cala 20 milioni di investimenti che fanno le aziende neanche possono partecipare perché non hanno il valore aziendale non hanno all'altezza di poter partecipare quindi questo è un fatto che dobbiamo tenere in considerazione questo è importante quindi una pianificazione turistica di conservazione delle aree che sono a scadenza perché se guardiamo alla legge Draghi come dice la Commissione Europea ragazzi se c'è la legge Draghi che dice che si deve considerare il valore aziendale per darvi la possibilità di gareggiare non posso neanche pensare che domani mattina è tutto cancellato tutto archiviato facciamo una pianificazione espansiva o al contrario la tagliuzziamo tutta il valore aziendale finisce il bilancio di sostenibilità sociale se ne va poi il paese e abbiamo terminato la nostra azione i criteri non ci sono ci inventiamo i criteri lo facciamo addirittura con un'istanza di parte dove non esistono i criteri quindi prima i criteri prima le regole sulla pianificazione vediamo quello che non va del codice della navigazione allineiamo il codice della navigazione e identificiamo un percorso un albio sono molto d'accordo su questo percorso ma oggi siamo qui per dirci no non no alla Bolkestein ci siamo a piene mani ce l'hanno detto al tavolo 27 volte su 26 riunioni 27 volte ci hanno detto che la direttiva servizi non è scapolabile ci possiamo lavorare possiamo lavorare è una trattativa quella della non scazzia di risorsa non è la soluzione finale perché me ne guardo bene però siamo arrivati a 5 riunioni a definire durante tutta l'estate siamo arrivati ancora oggi ci diciamo che quell'impianto deve essere portato ora ci risponderanno ci diranno non è più possibile il governo ci riconvocasse e lì facciamo quello che va fatto però ce lo devono dire ufficialmente ancora non c'è stato detto e né tantomeno a detta del professor Condinanzi né tantomeno c'è stata lui è rimasto sorpreso perché immaginava che da lì uscissero e quindi avviassero tutto il contenzioso in corte di giustizia non è calendarizzato nulla è rimasto particolarmente sorpreso di questo vuol dire che ci sono margini di lavoro però poi questi margini si assottigliano quindi aspettare arrivare a maggio ecco perché abbiamo chiesto facciamo una norma arriviamo prima delle sentenze prima della revisione della sentenza delle gemelle arriviamo a una norma prima dell'estate con questa già siamo pronti per la bozza di norma in linea di massima c'è ma è una bozza di norma che deve guardare al negoziato europeo ci dicono ma è tutto troppo lento non va bene aspettare le elezioni per poi calendare ovviamente capitalizzare il consenso e poi dire non ce l'abbiamo fatta così non va bene non va bene perché si va all'asta si va all'asta scusate non è quello il termine perché l'asta è quella del pesce come mi insegna Gennaro non è quella delle concessioni si chiama evidenza pubblica così lo spieghiamo bene una volta per tutte perché questo è il punto io volevo dire queste cose perché ci tenevo ma l'intervento illuminante del professor Zunarelli anche Tranchant credo che sia corretto e giusto dobbiamo riboccarci le maniche abbiamo sottoscritto un documento con le associazioni adesso noi ci incontreremo per ragionare su quelli che sono i criteri cioè la piazza per quanto ci riguarda è terminata perché non possiamo dire alle aziende che vanno in piazza il giorno dopo non c'è una soluzione quando torno a casa la soluzione dopo 24 ore dici ma sono da protestare ma non c'è la soluzione quindi francamente questo è importante io andrei avanti rapidamente e chiuderei sostanzialmente andrei con il team direct della commissione europea che oggi è qui presente e che spero riporti agli amici della commissione europea in Italia quello che stiamo dicendo Alberto D'Alessandro un intervento propriamente sul turismo poi la parola ovviamente a Stefano Magliandi per fiabba a Giancarlo Zema e a Forte mi sembra che ci sia l'avvocato ecco l'avvocato Forte e sul tema del valore aziendale per chiudere il tutto sinteticissimo prego prego Alberto grazie grazie ringrazio il presidente i presidenti di Federbanneali per l'invito questa opportunità di essere presente ringrazio gli onorevoli presenti in sala gli onorevoli che sono intervenuti questa mattina interventi di grande spessore di grande interesse e tra l'altro Riccardo Zucconi è un mio parlamentare di zona così come Deborah Bergamini condividiamo la Versilia come territorio che è un territorio molto molto ricco di blu economy mi viene da dire così come gli altri territori è difficile pensare all'Italia senza la blu economy perché è anche le blue destination dire quale perché tutto è una blue destination e tutto rientra nel nostro paese nell'ambito della blue economy però questo appunto è un settore di grande crescita di grande espansione e devo dire che l'Europa negli ultimi anni tralasciando diciamo ora l'argomento scottante difficile complesso e controverso del tema del balneare però il tema invece dell'economia del mare è diventato certamente negli ultimi anni un tema assolutamente prioritario per la commissione europea e l'Unione europea tutta perché è importante il presidente Maurelli ha fatto vedere all'inizio nelle sue slide di presentazione proprio anche l'impatto economico di questo del settore mare che ovviamente non è unicamente mare ma si interfaccia con la costa e anche con le vie dell'acqua interne pensiamo al fiume Tevere ai fiumi navigabili pensiamo al sistema dei laghi il fiume Arno insomma ci sono tante iniziative anche intorno alle aree fluviali e alle aree lacustri di grande interesse e importanza e Blue Economy che tocca ad ampio spettro i settori principali dell'economia dalla pesca all'acquacultura ma tocca il sistema dei porti tocca il sistema del marine il sistema del turismo turismo costiero e subito dell'entroterra immediato tocca il sistema enogastronomico perché il rapporto mare-terra è molto è molto stretto anche sulla sulla gastronomia tocca il sistema delle grandi infrastrutture dei trasporti trasporti marittimi pensiamo ai collegamenti con le isole che per il nostro paese sono strategici ma tocca anche il tema della sicurezza perché sotto i mari passano quei cavi sottomarini che ci danno oggi l'interconnessione col mondo globale del web e il digitale senza quei cavi oggi non potremmo comunicare per cui anche sotto il mare c'è tutta una serie di direttive a livello europeo importanti e si parla di sicurezza quindi non solo la cyber sicurezza che viene dall'alto ma anche la sicurezza sotto i mari e la robotica che poi è connessa sotto marina che è connessa anche a questo tipo di sicurezza quindi il tema è immenso ora il mio intervento però lo restringo fortemente perché noi vogliamo parlare oggi del tema del turismo e della blue economy legata al turismo costiero alle rotte blue e alle blue destination ci sarebbero anche delle slide che non so se sono disponibili così volevo dare anche un po' più di colore al mio intervento vediamo se ci sono le slide così supporto il mio intervento con delle belle immagini perfetto non so poi come benissimo basta puntare eccolo vedo qui e puntando verso verso lì di qua scorre perfetto italian blue route italian blue route vedete il logo dell'italian blue route è è un progetto un percorso che nasce qui fuori Roma alla fiera di Roma vediamo alcuni dei fondatori di questo percorso di questo itinerario itinerario turistico culturale ma che si collega fortemente al tema della blue economy che vuole in qualche modo mettere a sistema il tema della blue economy e appunto valorizzare il sistema delle risorse che cresce intorno alle destinazioni turistiche legate al mare quindi quando parliamo di sistema parliamo appunto di tutti quei temi economici che ho introdotto subito all'inizio fondatori sono i comuni del Lazio devo dire che è partito tutto dal Lazio l'italian blue route nasce nel Lazio e poi cresce in altre regioni d'Italia abbiamo i comuni tra i fondatori Cervete della Dispo di Santa Maranella il comune siciliano di Messina e tutta una serie di soggetti istituzionali e molto attivi nell'ambito del turismo e del settore marittimo del Lazio vorrei anche citare l'interesse e la collaborazione che sta nascendo con il GAL Lazio su questo tema che è un altro tema molto importante un altro soggetto portatore di interessi locali che interessa molto nello sviluppo di questo itinerario l'itinerario si è via via allargato alla Toscana alla Campania alla Calabria al Molise alle Marche alla Puglia e all'Abruzzo e è tuttora in espansione e in crescita il lente coordinatore è la FEIST con Sabrina Busato e Massimo Castellano abbiamo lanciato questa iniziativa e c'è un soggetto come dire coordinatore i temi sono questi sono temi valoriali mi viene da dire partendo da uno schema che mi ha molto caro che è quello degli itinerari europei del Consiglio d'Europa che nascono proprio intorno alla scala dei valori culturali e valori turistici che un territorio può esprimere e intorno a quello organizzano delle attività che sono attività economiche attività culturali attività di messa al sistema e di governance certamente la valorizzazione del patrimonio culturale del Mediterraneo perché l'itinerario nasce in Italia ma lo dirò a breve comincia a guardare all'Europa e al Mediterraneo come riferimento favorire il turismo consapevole nelle Blue Destination con la nascita di un Blue Tourism lavorare molto sul tema della comunicazione del turismo blu che è un turismo etico responsabile attento all'ambiente sostenibile di qualità per vivere il mare con una consapevolezza anche della risorsa acqua è scritto in fondo e quindi anche del valore ambientale dell'acqua di quanto è importante partecipando ai vari convegni si capisce quanto l'acqua sia fondamentale anche nell'equilibrio climatico si parla del cambiamento climatico l'acqua assorbe la CO2 in maniera incredibile ed è quella che permette di mantenere il nostro pianeta in equilibrio senza il mare saremo già surriscaldati e probabilmente estinti quindi il mare è un elemento fondamentale ed è veramente fondamentale la sua preservazione la sua salute per quanto ci riguarda dopodiché ovviamente sviluppo locale e innovazione abbiamo parlato di digitalizzazione abbiamo parlato di transizione ecologica non abbiamo ancora parlato però l'altro tema importantissimo che si applica anche a tutto il sistema di trasporti marittimi su questo la Commissione Europea sta facendo molto con le proprie direttive proprio perché il turismo marittimo e navale è molto impattante non ci si pensa ma è molto impattante sul piano della CO2 l'agenda 2030 come sfondo di riferimento delle Nazioni Unite con i goals delle Nazioni Unite in questo itinerario vuole collocarsi in un percorso quindi collegato ai grandi temi della vita sott'acqua la vita sulla terra salute e benessere l'acqua pulita le città e le comunità sostenibili e la responsabilità nel consumo e nella produzione economica il nostro manifesto ha questi slogan di riferimento un sistema di luoghi e saperi il dialogo tra la terra e il mare la valorizzazione del patrimonio blu la blu economy l'innovazione tecnologica ma abbiamo accennato è un sistema che guarda anche non solo al mare ma appunto fiumi e laghi perché è il sistema acqua che è interessante infatti abbiamo molti comuni che hanno anche il tema per esempio della navigazione fluviale penso al Comune di Roma che è già entrato a far parte del progetto che guarda molto attentamente alla navigazione del Tevere e allo sbocco poi sul mare a Ostia e sviluppiamo delle attività di workshop già per darci come dire un sistema di gestione di governance dei percorsi ed è questo l'obiettivo che ci poniamo cioè quello di rientrare pienamente nel piano nell'Atlante dei cammini cominciando dalla regione Lazio ma ci sono anche altre regioni tipo la Toscana dove accanto ai cammini di terra dico quelli più famosi la via Francigena che tutti conoscono o anche i cammini legati al Giubileo pensiamo anche ai cammini d'acqua che sono di fatto non dei cammini ma sono dei percorsi navigabili e che sono comunque attraverso il mare dei sistemi di collegamento con aree turistiche quindi questo è l'obiettivo che si pone e che poniamo anche a Lazio come riferimento per creare fin da ora dei percorsi delle rotte di mare che si collegano alla terra e che attraverso delle destinazioni e itinerari locali possono valorizzare l'immediato entroterra e quindi diventa poi uno sbocco turistico anche per chi arriva al mare in stagioni estive o anche in altre stagioni destagionalizzando per conoscere il territorio interno e averne una piena frizione il Blue Tour è stato un primo esperimento molto interessante con un percorso con una rotta vera e propria 10 tappe 7 regioni coinvolte 59 parce 1200 miglia marine percorse con questa bellissima barca a vela Yankees quindi perfettamente sostenibile partito dall'Erici in Liguria e ha circunnavigato tutta l'Italia è passato saluto alla capitale il porto di Ostia dallo stretto di Messina per giungere o ristretto il percorso per arrivare a Chioggia tappa finale quindi è stata veramente una bellissima esperienza e questo è già un vero e proprio itinerario culturale le partnership nascono anche strada facendo perché abbiamo messo on board tutta una serie di attori importanti parlavamo di Europa ci siamo poi affacciati anche con faceva riferimento il presidente anche al ministro Mussumeci che guarda con grande attenzione non solo nello spazio Europa di Piazza Venezia ospite del Parlamento e della Commissione europea abbiamo dibattuto di questi temi Blue Economy e Blue Skills che sono poi le competenze legate al sistema della Blue Economy ma poi con Mussumeci abbiamo fatto un bellissimo convegno a Catania promosso da lui insieme a Commissione europea e Parlamento proprio sulle pesca e politiche del mare quindi due ambiti molto quindi grande attenzione devo dire in questo piano strategico anche da parte del ministro e poi questo è il passaggio finale il lancio della European Blue Route cioè il percorso italiano diventa un percorso internazionale guardando al Consiglio d'Europa Consiglio d'Europa che è l'altra organizzazione europea diciamo diversa dall'Unione europea che però sviluppa dei programmi di valorizzazione importanti come questo programma degli itinerari culturali che riconosce da un label europeo un riconoscimento ai percorsi culturali di tutta Europa ma non è un riconoscimento facile da ottenere è un po' come ottenere il label dell'UNESCO c'è una procedura molto complessa che dura diversi anni che richiede anche dei modelli applicativi molto restrittivi e non semplici da cogliere per cui richiede un'organizzazione una governance e una progettualità e quindi noi lanciamo questo allargamento del percorso italiano all'Europa ottimisti che ci venga questo riconoscimento a livello europeo che è una certificazione di qualità alla fine del percorso perché attraverso questo riconoscimento si sa che si è fatto un percorso si è incardinato dentro una struttura organizzativa di un certo tipo e che ricade ovviamente in modo molto positivo poi sul territorio e sulle destinazioni che ne entrano a far parte alcuni itinerari di mare esistono già la bellizzazione dal Consiglio d'Europa questa è la via dei Fenici la rotta di Enea che parte dalla Turchia coinvolge la Grecia e la penisola italiana e poi ecco questa è la rotta di Enea comunque anche questa rotta di mare e poi nel nord Europa la rotta dei vichighi anche questa rotta di mare fortemente supportata anche dal governo danese come proposta al Consiglio d'Europa quindi l'itinerario europeo inizia oggi mi viene a dire con un percorso con una strutturazione e mi viene a dire nascerà anche dal Lazio che è molto attivo sull'Italian Blue Route per arrivare poi in Europa coinvolgendo i paesi della sponda nord e mediterraneo ma anche e questo è il bello l'itinerario culturale la sponda sud c'è la possibilità di coinvolgere destinazioni e rotte del mediterraneo e del sud quindi vuole essere poi uno spazio di cooperazione di dialogo e anche di crescita tra i popoli del mediterraneo al centro di tutto ci sarà il tema pensiamo di valorizzare il tema culturale dei porti antichi cioè quella stratificazione che c'è stata nei porti nelle varie epoche porti romani porti etruschi porti fenici poi diventati fino alla modernità valorizzando con il grande patrimonio industriale anche moderno le fortificazioni i fari cioè tutto quello che è il sistema del porto e che diventano dei luoghi di partenza e di approdo verso altri porti altre destinazioni quindi collegandoli in una rete europea e internazionale e ci piace poi ma questo ci viene anche dal Consiglio d'Europa sviluppare un sistema di governance partecipativo ci sono delle convenzioni molto belle come la convenzione di Faro che mettono al centro le comunità locali quindi le persone di abitanti del luogo e li fanno diventare gli attori della propria proposta di sviluppo locale e di sviluppo territoriale e quindi le tante identità culturali che abbiamo in Italia e in Europa possono trovare anche all'interno una loro visibilità e una loro come dire punto di crescita e di soddisfazione e quindi le tappe che ci aspettano sono queste la creazione del network internazionale una definizione precisa di un metodo di lavoro un piano economico per identificare le risorse il piano di management e azioni di attività di indagine e messa a sistema a livello territoriale e poi attività di promozione e comunicazione è un bel impegno che ci prendiamo ma siamo certi anche alla luce del dibattito di oggi che ci sia che questa azione possa mettere anche al sistema il turismo locale e essere di supporto a questo grande paese che è l'Italia che fa del mare una delle sue principali risorse grazie grazie a dottor D'Alessandro Italian Blue Root è una delle idee che metteremo in campo anche nella proposta sulla Blue Economy la nostra proposta diciamo piccola proposta ecco di inserimento appunto di Italian Blue Root proprio nella norma sulla Blue Economy o a livello partiamo vediamo a livello regionale ma vedremo anche a livello nazionale questo faremo come proposta e vedremo come poter articolare complimenti ci crediamo a te grazie a questo punto la parola a Stefano Magliandi di Fiabba che mentre ci sarà l'intervento di Fiabba io chiamerei anche il comandante della Guardia Costiera il capito di Pasciaro la Grasta perché è un tema l'accessibilità inclusiva e la sicurezza lo farei quasi sì prego prego comandante sì sì tu sei a tuo agio funziona? sì no non peraltro Marco Caro grazie di tutto ma oggi le nostre articolazioni hanno dato pro di forza anche la Guardia Costiera per noi di Fiabba è nostra sorella noi abbiamo ieri sera avuto il piacere di incontrare l'ammiraglio comandante generale del corpo a una manifestazione che abbiamo fatto su un premio della bellezza del mare una manifestazione fotografica che è stata fatta presso la provincia e devo dire che la Guardia Costiera è sempre vicina a Fiabba da 22 anni fa parte del nostro comitato d'onore quindi mi permetto il lusso di dire che è nostra sorella mi è veramente un grandissimo piacere e onore per noi quindi l'importanza del mare è fondamentale grazie a Marco io faccio un piccolo una piccola un piccolo passaggio che è dovuto quando ho incontrato per la prima volta il presidente di Federbanera di Roma in quella giornata c'era anche oggi posso dire il mio amico Marco che ha mi ha illuminato già ho la testa che corre tanto 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 ma lui è ancora più veloce di me e nella sua definizione mi ha fatto capire un'importanza per noi di Fiabba che facciamo da 22 anni una battaglia su che cos'è l'accessibilità ci ha dato l'opportunità di poter misurare un qualcosa che va oltre il concetto di accessibilità tradizionale quindi la sfida che ci siamo dati insieme a Marco in quella determinata giornata era quella di dire siamo capaci di poter misurare e anche progettare semmai degli spazi accessibili per quello che è la più importante risorsa della nostra nazione che sono le coste gli 8 mila chilometri di costa anche ieri sera facevo questo intervento abbiamo un tesoro unico non abbiamo la bellezza del mare abbiamo la bellezza del nostro territorio quindi siamo capaci siamo in grado di poter governare un processo accessibile e io sono sicuro di esserci insieme possiamo farlo e tanto è vero che ci è venuto in mente un'idea di dire incominciamo a immaginare come potrebbe diventare uno spazio marino ma principalmente partiamo dal mondo banneare accessibile per tutti che cos'è l'accessibilità cosa garantisce al cittadino di tutti i giorni quindi non parliamo della disabilità intesa come concezione di condizione umana che va rispettata come individuo ma parliamo delle persone mettiamo le persone al centro tuteliamo tutti gli individui e garantiamo a tutti gli individui di poter accedere tranquillamente all'interno degli spazi dei nostri stabilimenti delle nostre aree marine e questo devo dire nuovamente grazie al presidente Maurelli ha dato una spinta forte alla nostra organizzazione e al team con cui io lavoro oggi abbiamo qui due dei nostri tecnici l'architetto vetere che è sempre in team con noi dalla mattina alla sera in ufficio ma anche il geometra dei pileri che viene dalla Sardegna addirittura quindi da una regione bellissima fantastica ma che è bagnata in tutti i lati dal nostro fantastico mare e proprio partendo dalla regione del nostro amico Giovanni abbiamo immaginato una bozza di che cosa possa essere realmente una spiaggia e totalmente inclusiva quindi accessibile per il soggetto che ha una la persona che ha una disabilità ma anche per una mamma anche per una persona anziana che è il 24 pensate le statistiche dicono che la persona con ridotta mobilità misura un 24.5% della nostra popolazione quindi parlando di blue economy parlando di economia se noi escludiamo da questa economia tutte queste persone abbiamo fatto il bene delle nostre coste oppure ci siamo limitati esclusivamente a creare degli ambienti belli usabili soltanto per pochi questa proiezione che voi vedete questo è un esercizio che abbiamo fatto come potete immaginare dalla bellezza di quel mare stiamo parlando della Sardegna posto fantastico unico direi una spiaggia difficilissima una spiaggia che come vedete è circondata da vegetazione incolta dove la pavimentazione per arrivarvi è completamente complessa ma anche la stessa spiaggia ha delle criticità che non sono secondarie bene cosa abbiamo immaginato che cosa abbiamo pensato di poter mettere a beneficio di ogni persona misuriamo il territorio quindi siamo partiti da che il concetto di mappatura questa mattina ne abbiamo sentito parlare più di una volta il principio di mappatura noi come FIABA mappiamo ormai da un bel po' di tempo ambienti come questi strutture museali aree comunali ma le mappiamo per capire dove sono determinate criticità e dare delle soluzioni integrative e migliorative a quell'ambiente ecco questa non è altro che la fotografia in un ambiente complesso dove ci sono delle criticità importanti ma dove è possibile creare come vedete degli spazi utilizzabili e usuabili da ogni individuo quindi parliamo di le solite concessioni che noi diamo al principio di accessibilità in una spiaggia delle sedi di job che non sono soltanto una soluzione fino ad arrivare a un sistema di emissioni in acqua attraverso una struttura meccanica che è un sea track a una condivisione di gazebi con delle sedute leggermente diverse rispetto alla normalità leggermente parliamo di pochi centimetri ma quei pochi centimetri fanno la differenza quei pochi centimetri possono essere fruibili da tutti ovviamente ci sono poi i camminamenti i camminamenti vanno sulla base del territorio in cui noi dobbiamo confrontarci perché non sempre possiamo utilizzare camminamenti non ecosostenibili tutto ciò che noi abbiamo immaginato insieme a Federbanneari è la realizzazione di spazi ovviamente calandoli sull'unità specifica totalmente ecosostenibili totalmente accessibili inclusibili e usuabili da ogni individuo ecco questa è la nostra visione questa è la visione che noi abbiamo di una qualità della vita perché parliamo sempre di qualità della vita ma poi come la misuriamo questa qualità se noi non siamo capaci di fare accedere in quella spiaggia mia madre che ha 89 anni io porterò sempre esempio dell'unica persona che conosco perfettamente ma se limito a mia madre la possibilità di potervi accedere probabilmente non ho fatto il bene di tutti gli altri quindi ragiono per compartimenti umani dobbiamo condividere un progetto un processo che va verso la condivisione umana includendo tutti gli individui nelle proprie condizioni quindi ringrazio nuovamente il mio amico Marco Feder Barneari e come sempre le Capitanerie di Porto grazie Stefano ma questo perché perché ci stiamo soffermando sui temi ancillari sostenibilità accessibilità inclusiva perché sono i temi del domani quelli di cui parlava prima il professore Zunarelli i temi di individuare una procedura diciamo di evidenza pubblica che ci consenta di giocare su tre asset il modello turistico organizzativo l'accessibilità inclusiva e la sostenibilità i tre asset prevalenti sono questi e noi su questo stiamo lavorando basando tutte le nostre energie quindi l'operazione con FIABA in amicizia assolutamente ma anche devo dire la verità con una grandissima professionalità e soprattutto con una risposta zero velocissima ci consentirà di portare nei vari Blue Road Show che stiamo facendo in giro per adesso nel Lazio qual è il nostro non solo il nostro pensiero perché noi stiamo organizzando nei vari comuni del Lazio un Blue Road Show sia sui temi dell'accessibilità sia sui temi ovviamente della sostenibilità quindi come format per far capire che esiste questo modello che deve essere portato e soprattutto è funzionale a cercare di risolvere l'aspettativa per i rinnovi di concessione perché altrimenti lavoriamo ci basiamo sul nulla quindi questi sono due aspetti fondamentali l'accessibilità inclusiva la sostenibilità e il modello organizzativo turistico sono quelli che qualificano l'azienda su temi generali poi ci sono tutte le altre questioni che vanno affrontate diciamo in modo più tecnico nelle sedi competenti ma fondamentalmente gli asset generali sono quelli poi declinati dalla legge 118 non è che mi sono inventato chissà che cosa basta leggere la 118 e vedere quali sono le macro tematiche su cui poter lavorare l'accessibilità inclusiva come diceva Stefano Pocanzi è un tema fondamentale ma che non può andare avulso a se stesso rispetto anche alla sicurezza perché accessibilità poi c'è sicurezza quindi il lavoro che fanno le guardie costiere la capire di Porto ringrazio il comandante Carlone il comandante generale Carlone per averci dato l'opportunità di poterci confrontare con un suo rappresentante qui per noi è comunque importante ed è uno degli asset fondamentali anche di una nuova prospettazione del futuro del nostro sistema imprenditoriale quindi in modo organizzato e non in modo estemporaneo questo è il senso allora buongiorno sono il capitano di fregata Flavio Stefano Lagrasta vi porgo i saluti ovviamente da parte dell'ammiraglio comandante l'ammiraglio ispettore capo Nicola Carlone che è il comandante generale del corpo delle capitanerie di Porto Guardia Costiera a riguardo prima di introdurre specificatamente questo aspetto della sicurezza ho preso qualche appunto mi piace fare una riflessione su quello che è il concetto di Blue Economy tra l'altro apprezzando i pregiatissimi contributi che sono stati offerti nella mattinata da tutti i qualificati esperti di settore dagli imprenditori di settore e dalle autorità politiche se facciamo un riassunto oggi abbiamo di fronte a noi il comitato interministeriale per le politiche del mare e col piano del mare il comitato per la pianificazione degli spazi marittimi si stanno andando a definire anche le attività correlate alla individuazione della zona economica esclusiva c'è un fortissimo odore di salsedine oserei dire nell'ambito di questa marittimità così piena si muovono tutta una serie di realtà che sono il di porto nautico che riguarda non solo ovviamente le unità da di porto ma anche le marine da di porto le spiagge assentite in concessione che rappresentano come abbiamo visto oggi il core di questo interessante momento di riflessione le spiagge non assentite in concessione comunque gestite dai comuni e poi abbiamo tutta la parte che veniva evidenziata dell'aspetto turistico tipicamente che non è solo turismo di spiaggia ma anche comporta tutto un retroterra nel territorio con la valorizzazione della specificità locale e sotto questo profilo vi ci aggiungerei anche magari visto che parliamo di un comparto produttivo anche la tematica parallela della referenziazione delle qualifiche professionali che operano nel settore turistico o demaniale anche in ambito unionale ora i concetti più importanti sono stati declinati oggi dagli altri quindi io non mi ci soffermo però abbiamo parlato anche di ecosostenibilità di inclusività di transizione digitale e poi penso sia emersa anche l'implicazione correlata alla sicurezza dei trasporti marittimi dove si misura la linea di contatto dell'autorità marittima con questo rilevantissimo comparto produttivo su quello che il turismo balneare è propriamente detto che però alla luce di quello che ho voluto premettere va inteso nell'ambito di un'accezione olistica ci sono variegati esperti che intervengono in questa linea di contatto sulla spiaggia di cui poi diciamo l'utente finale è il balneare è il turista da un lato abbiamo l'imprenditore balneare articolo 2082 codice civile un professionista deve fare degli investimenti deve operare in un certo contesto socio economico e abbiamo l'autorità marittima sulla scorta di una competenza che è rimasta negli anni incardinata comunque sull'amministrazione marittima e che si esprime attraverso il cosiddetto potere di ordinanza di sicurezza balneare incardinato sui comandanti delle capitaniche di Porto ci sono delle nuove tendenze sull'argomento nel senso che la realtà come dicevo è complessa per cui al netto di un confronto dialettico e costruttivo che dobbiamo sempre avere con gli enti locali chiaramente e con i soggetti che operano nel settore bisogna considerare che l'ordinanza di sicurezza balneare per quanti la conoscono e penso la conosciamo un po' tutti è la prima cosa che leggiamo quando entriamo in uno stabilimento balneare detta una serie di disposizioni di prescrizioni per quanto attiena le predisposizioni sull'arenile finalizzata alla sicurezza della sicurezza dell'utente ma non bisogna limitarsi semplicemente al bagnante perché come sapete c'è una linea di falla una linea di contatto tra il tipico utente balneare e tutta una altra serie di attività sportive ludiche ricreative che riguardano attività da di porto locazione noleggio di natanti jet surf sky surf wind surf c'è una varietà una molteplicità di attrezzi diciamo di unità di porto nautico anche diciamo in quella fascia forse più prossima alla battigia e si sta sempre più ampliando ora in questo contesto l'ordinanza di sicurezza balneare ha anche linea di contatto per esempio con lo svolgimento dell'attività sportiva di pesca ha la linea di contatto con quelle che sono le realtà economiche che si svolgono sulla spiaggia però è il dato fondamentale che sostanzialmente è finalizzata ad evitare o a contenere gli incidenti che possono aversi in mare sotto questo profilo ne ho fatto già accenno giorni fa quando abbiamo avuto il piacere di partecipare a una settimana di studi Blue Forum a Gaeta sotto questo profilo c'è anche la individuazione delle misure di mitigazione del rischio d'annegamento che è un argomento che è oggetto di costante attenzione da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità addirittura dell'Assemblea Generale dell'ONU che con una serie di raccomandazioni ha sensibilizzato le varie nazioni ad adottare strategie per la definizione di politiche di contenimento del rischio d'annegamento sotto questo profilo il Ministero della Sanità nel 2019 ha creato un osservatorio cui partecipa anche la Guardia Costiera italiana andando al dunque quando si va a progettare la sicurezza su un'arenile come dicevo c'è un confronto costruttivo indubitabile con gli enti concedenti con le realtà locali e soprattutto ci possono essere degli strumenti che potrebbero andare ad ottimizzare l'architettura di sistema del salvamento sulla spiaggia che possono essere per esempio i piani collettivi di salvamento dove sostanzialmente l'autorità marittima non va ad interloquire con separati professionisti ognuno dei quali gestisce la sicurezza su un singolo stabilimento balneare ma dialoga con un unico soggetto professionalmente competente che magari ha con sé una dotazione di strumenti mezzi uomini una specie di reggimento potremmo dire che si dipana su più stabilimenti balneari sulla linea di costa e interessa anche magari le aree non assentite in concessione è uno strumento fondamentale in audio già dagli anni 80-90 nell'ambito del quale subentra il cosiddetto concetto di risk assessment cioè di valutazione del rischio che è una tendenza che si sta prospettando attualmente sempre di più ed è sostanzialmente uno studio mirato strutturato su quelle che possono essere le predisposizioni di sicurezza di un arrenile non necessariamente oggettivizzate per tutto il territorio ma rapportate e ragionate in relazione alle specificità che contraddistinguono una determinata zona di mare non è un mistero per nessuno la costa di Liniano Sabbiadoro dove all'epoca quando ero più giovane ho avuto l'onore di servire presso la capitaneria di Porto di Monfalcone ha determinate caratteristiche la costa Sarda ne ha altre la costa diciamo per esempio siciliano quella pugliese ne hanno diverse sostanzialmente in una zona di mare noi dobbiamo considerare la conformazione orografica della costa i venti dominanti le correnti eventualmente presenti le caratteristiche del fondale come si dipana se va subito giù appena dopo la linea di Battigia o invece va giù molto a distanza diciamo dalla linea di Battigia dobbiamo considerare anche il bacino antropico di frequentazione delle spiagge una cosa su cui spesso non si pensa è che su una cittadina di mare che conta durante la stagione non estiva circa 40.000 60.000 unità di popolazione si riversano poi in alcuni casi anche 120.000 persone il doppio faccio un esempio meramente scolastico e questo determina la valutazione di una serie di indicatori di impatto sulla renile e sulla costa e quindi sulla necessità di predisporre le predisposizioni di sicurezza in un modo ragionato e strutturato quindi questo è il lavoro fondamentalmente che si fa sulla renile per garantire la sicurezza lasciatemi un'ultima considerazione questo lavoro concertato sostanzialmente vede da una parte l'imprenditore balneare dall'altra l'autorità marittima ma concorre alla configurazione di quello che è il concetto di sicurezza attrattiva nel senso che nel momento in cui si fanno ad esempio ad garantire determinati trend di sicurezza su una renile è legittimo supporre che ci possa essere una maggiore attrattività per l'utente finale ad andare su una determinata fascia di costa piuttosto che su un'altra io vi ringrazio per l'attenzione ho terminato il contributo grazie comandante veramente importante ma specialmente quest'ultima parte significativa perché l'abbiamo visto in alcune realtà del nostro territorio abbiamo puntato sui piani collettivi di salvamento ed effettivamente puntato e promosso quindi ottenuto un risultato esattamente in questa direzione quindi è l'assoluta verità grazie bene allora andiamo rapidamente in conclusione perché altrimenti tra un po' ci cacciano e quindi direi allora chiamerei Giancarlo Zema per la Giancarlo Zema Design Group presidente ovviamente chiamerei anche Massimo Forte così immediatamente dopo ci predisponiamo per parlare anche di Carmi grazie grazie Giancarlo non vi presento Giancarlo Zema si presenta da solo insomma lavora in tutto il mondo lavora in Italia grande attenzione alla sostenibilità progettualità quindi con lui a lui chiediamo delle idee a lui chiediamo di darci un nuovo modello su uno di quei tre asset fondamentali che ovviamente il principale è la sostenibilità per quanto riguarda la sua attività e quindi la nostra azione su questo vorremmo concentrarci prego grazie ringrazio ovviamente il presidente Maurelli e tutti voi e le autorità che sono intervenute da questa mattina ho delle diapositive non so se come si fa per andare avanti ecco ecco ok perfetto allora perfetto per andare avanti questo ok come abbiamo detto questa mattina ci troviamo davanti a un patrimonio costiero di 8.000 km con un numero di strutture insomma delle unità turistico balneari di quantitativo enorme oltre 29.000 unità fondamentalmente quindi siamo di fronte a una vera e propria impresa turistica che deve essere però valorizzata grazie a cosa a un design più sostenibile e anche più smart io mi occupo da anni con il mio studio di architettura fondamentalmente di infrastrutture smart per imprese pubbliche private e strutture alberghiere sostenibili insomma un po' in giro per il mondo e quello che abbiamo davanti a noi è una grande opportunità cioè la sostenibilità è sempre stata vista un po' adesso come quasi un fardello un qualcosa che dobbiamo in qualche modo assecondare però ancora lontanamente non riusciamo bene a vederla come opportunità in realtà non è così quindi già immaginare ad esempio tutto il tema dobbiamo perseguire la sostenibilità ambientale ci sono diversi tipi di sostenibilità una sostenibilità a 360 gradi che dobbiamo in qualche modo andare a cogliere e per in qualche modo riqualificare le nostre costiere le nostre coste perdonatemi e dare e dare poi un valore anche ovviamente di revenue perché fondamentalmente tutti voi siete imprenditori insomma che operate sul territorio e ovviamente bisogna prevedere questo si è interrotta ecco perfetto partiamo ad esempio dall'assorbimento di CO2 che deve avvenire in maniera molto molto semplice con delle piantumazioni ovviamente possiamo utilizzare vari tipi di essenze sulle nostre sulle nostre coste però il verde che fino a qualche anno fa veniva visto come un elemento accessorio della progettazione deve diventare invece l'elemento fondante cioè fondamentalmente ormai le strutture balneare devono vedere comunque devono integrarsi nel verde dobbiamo vivere in completa armonia con la natura e grazie anche all'assorbimento appunto da parte delle piante ovviamente io vi porto poi delle eccellenze degli esempi ma voglio dire sul territorio l'importante è intervenire con diciamo l'inserimento di essenze delle più varie ovviamente ad esempio la paolonia è una delle piante che ossorbe più CO2 al mondo e che è molto veloce nella sua crescita quindi è un po' la Ferrari nel campo delle piante questa permette di assorbire fino a 40 tonnellati di CO2 per ogni ettaro di piantumazione ovviamente poi dobbiamo immaginare questo verde che si va ad aggrappare a crescere anche su delle superfici verdi su delle superfici verticali all'interno delle nostre strutture balneari quindi dare questa possibilità per creare degli ambienti salubri belli da vedere ma soprattutto che ci mettono delle condizioni psicofisiche proprio per godere di questi spazi poi ovviamente c'è la sostenibilità dei materiali impiegati ovviamente dobbiamo impiegare materiali più possibili naturali riciclati e riciclabili questo non significa che per forza di cose dobbiamo avere arreddi etnici con uno stile insomma etnico più tribale possiamo avere anche architetture più sofisticate con un design molto più spinto purché si lavori appunto con certi schemi questi esempi sono esempi di architetture che abbiamo dei progetti realizzati in giro per l'Europa per delle strutture turistico-recettive di alto livello poi c'è tutta la parte di sostenibilità energetica quindi sfruttare quelle che sono le superfici a nostra disposizione per il fotovoltaico per l'eolio cioè fondamentalmente dobbiamo creare strutture balneari in grado di produrre l'energia necessaria per il proprio fabbisogno se non totalmente in parte e fare in modo che possa in qualche modo ridurre cioè dobbiamo ridurre la forza energivora di questi edifici quindi attraverso anche delle scelte architettoniche formali che permettono quindi di migliorare la microventilazione naturale di creare ombreggiamenti di creare tutte quelle situazioni che ci permettono quindi di avere minore consumo energetico e creare invece energia perché alla fine noi ci troviamo in condizioni veramente ottimali sulle nostre coste per poter avere un'insolazione molto forte nella gran parte dell'anno e ottenere quindi energia pulita quindi dobbiamo anche perseguire quella che è la sostenibilità tecnologica intesa come utilizzo ad esempio della domotica e dell'intelligenza artificiale si fa molto parlare dell'intelligenza artificiale però quasi ci spaventa questa tecnologia invece dobbiamo imparare a conviverci anzi sfruttarla perché ad esempio avere questi edifici che in qualche modo possono essere queste strutture balneari viste non come edifici a se stanti ma come dei veri propri organismi viventi che reagiscono in tempo reale su quelle che sono le condizioni climatiche sul tempo che cambia sui flussi di persone che usufruiscono della nostra infrastruttura e quindi creare ad esempio variare l'opacità di alcune superfici vetrate attraverso delle vetrate elettrogromiche piuttosto che degli ombreggiamenti che possono crearsi in tempo reale in base alle persone che stanno vivendo gli spazi e creare anche grazie a delle speciali feritoie o sistemi meccanici della microventilazione naturale per ridurre raffrescare quindi i rambienti e ridurre i costi di climatizzazione in maniera molto naturale questi temi diciamo sono sempre stati affrontati nelle nostre città un po' nel mondo con il termine smart city a me piace parlare in realtà di smart green city perché fondamentalmente ormai dobbiamo immaginarle come delle città verdi dei parchi urbani dove ormai c'è l'idea proprio di fornire un servizio al cittadino che sia più breve possibile quindi nel raggio di 15 minuti a piedi possono essere raggiunte questi servizi ecco dobbiamo provare a migrare queste stesse terminologie queste stesse tecnologie che sono ormai abbastanza consuete nelle smart city nelle smart green city anche nelle smart green cost cioè immaginiamo che anche le nostre cost possono diventare più smart più green attraverso tutta una serie di tecnologie di materiali di architetture che in qualche modo dovranno riqualificare l'esistente sulle nuove ovviamente abbiamo più carta bianca riusciamo a essere più performanti però l'obiettivo è essere quello e poi tutte le tecnologie ormai presenti sul mercato che non ci devono assolutamente spaventare ma anzi mettiamole a servizio del nostro territorio e delle nostre strutture balneari quindi ad esempio lo Urban Air Mobility questa mobilità aerea avanzata che sta venendo avanti che va molto di moda dove si stanno muovendo tantissimi investimenti ecco immaginiamo di fare videocontrollo e videosoccorso aereo attraverso i droni elettrici quindi non inquinanti silenziosi su tutta la costa all'interno dei nostri parchi e così via così come immaginare addirittura mezzi acquatici esistono dei modelli di droni acquatici per il soccorso in mano e così via quindi tutta una serie di infrastrutture dovrebbero essere il più possibile green quindi per fare effetti anche di ricarica per mezzi elettrici e prima si parlava appunto dell'effetto della nautica quindi adesso sta venendo molto avanti la nautica elettrica e sempre più anche l'utilizzo dell'idrogeno all'interno di questi mezzi che ovviamente sono energivori tutto questo ci dovrà portare quindi questo tipo di sostenibilità abbiamo vista ambientale tecnologica energetica tutto questo ovviamente ha un senso poi se c'è intorno la sostenibilità sociale come abbiamo visto prima appunto con il dottor Maiandi la capacità di accogliere tutti quindi devono essere infrastrutture che vanno bene per i piccoli per i ragazzi i grandi gli anziani i disabili chi ha problemi di qualsiasi natura devono essere assolutamente totalmente inclusive inclusive perché è giusto a livello sociale e poi parliamoci chiaro non dobbiamo vergognarci a dire che ovviamente tutto questo può avere anche una rigatota economica delle revenues provenienti da un mercato apriamo le porte ad un mercato fino ad ora inesplorato e quindi ecco l'ennesima opportunità quindi un'opportunità energetica perché possiamo ridurre i consumi un'opportunità nel design sostenibile perché ci può portare attrazioni nei confronti di una clientela più sofisticata più internazionale un po' più avvezza a questo tipo di tecnologie di design il più in stile internazionale e poi ovviamente l'inclusività che permette quindi di aprire le porte ad un quantitativo di nuovi fruitori che anche loro possono hanno capacità di spese hanno volontà di godere degli stessi spazi che possono vivere in ormo dotati e creare quindi delle opportunità per tutti quanti insomma un futuro sicuramente più sostenibile ci aspetta è un'opportunità da cogliere sta a noi prendere questa diciamo quello che la tecnologia oggi ci offre è un'occasione unica perché in realtà la tecnologia è più avanti rispetto alla normativa e quindi sicuramente possiamo fare bene se vi è una volontà comune ovviamente ci devono essere poi delle regolamentazioni chiare per poter fare investimenti a lungo termine questo mi sembra che sia stato abbastanza dichiarato grazie per l'attenzione grazie grazie Giancarlo veramente esaustivo grazie nuovo concept insomma grazie io siccome ci danno pochi minuti abbiamo sforato alle ore 14 era il termine ma siamo arrivati velocemente alle 14 io darei subito la parola ovviamente all'avvocato forte in particolar modo sul tema dell'IVA quindi per un flash sul tema dell'IVA media europea 5,5% dagli studi che abbiamo acquisito noi qualche anno fa su quello noi scontiamo il 22% nostro tema ovviamente c'è una proposta diciamo che dovremmo portare avanti in sede di giunta c'è riuscita un'associazione adesso sulla stessa stregua di quel percorso è chiaro che il sistema balneare italiano sconta il 22% lo dobbiamo ricondurre nell'alvio corretto quello del 10% quindi la partita adesso parola all'avvocato forte grazie per questo approfondimento perfetto ringrazio il presidente Maurelli e prometto di condensare il mio intervento nonostante la complessità dello stesso in pochi minuti a me oggi l'arduo compito di andare a vedere e scrutare le eventuali ipotesi di un'applicazione dell'imposta IVA ridotta al 10% sugli stabilimenti balneari la tematica la tematica non è nuova nel panorama in quanto già dal 2017 sono state presentate petizioni anche piuttosto corpose in seno all'Unione Europea sono stati presentati degli emendamenti al DL crescita la stessa Feder Balneari più volte ha dialogato con il governo e anche pubblicando articoli in varie riviste si tratta ovviamente in questo caso di un'agevolazione non all'accessibilità come diceva Maiandi ma in questo caso di un'agevolazione fiscale che comunque ha ricadute importantissime fondamentali direi non solo e non tanto per il tessuto imprenditoriale quanto per il consumatore finale e dunque per tutto il settore turistico oggi come ricordavamo il settore dei balneari sconta un'imposta al 22% invece che al 10% come viene assicurata a tutte le strutture ricettive e quindi nel settore turistico prima di dare tuttavia una risposta occorre premettere brevi cenni sul quadro normativo e spero di non essere tediante su questo però bisogna ricordare che anche qui si tratta di un'imposta armonizzata e dunque l'Europa entra a pie pari perché parte del gettito viene riversato all'Unione Europea e l'Unione Europea con la direttiva la famosa direttiva 112 del 2006 fissa anche delle alibote minime e dunque ci impone un quadro all'interno del quale ovviamente il nostro paese deve muoversi è un'imposta neutra neutrale per gli operatori economici e quindi le imprese e come dicevamo prima invece è un'imposta che non è altrettanto neutrale sul consumatore finale che è l'ultimo ad essere inciso la proposta fa riferimento sicuramente al decreto IVA e alle tabelle IVA che vengono utilizzate sono state utilizzate da un'associazione importante che fa parte dei cosiddetti Marina Resort che ha presentato un interpello all'Agenzia dell'Entrata del numero 360 del 2021 andando dunque ad interrogare l'amministrazione finanziaria sull'applicazione dell'IVA al 10% non solo sui servizi che i Marina Resort prestano tradizionali ai diportisti ma anche sui servizi accessori l'Agenzia delle Entrate ha chiarito la piena parificazione dei Marina Resort alle strutture ricettive all'aperto qual è dunque il discrimine il discrimine è sicuramente il carattere ricettivo della struttura e dunque detta in termini molto semplici la caratteristica di quest'ultima di permettere il pernottamento degli usufruitori dei servizi all'interno delle strutture i Marina Resort lo permettono attraverso il noleggio o comunque la contrattualistica legata agli spazi acquei all'interno dei quali i diportisti possono alloggiare nelle loro imbarcazioni sarebbe a questo punto agevolato non solo il servizio proprio quindi il core business dei Marina Resort ma anche i servizi accessori come quelli di sicurezza e di pulizia ci sia quindi interrogati se lo stabilimento gli stabilimenti balneari possano rientrare nella definizione di strutture ricettive dunque scontare l'IVA al 10% come da proposte ad oggi se si guarda la tabella allegata al decreto IVA e più precisamente al numero 120 il carattere ricettivo potrebbe non applicarsi e di fatto lo è agli stabilimenti balneari però con questa risposta di interpello si apre un po' la visione su una prospettiva non dico rosa però sulla quale sicuramente la filiera balneare può battere un colpo e andare sostanzialmente a portare i suoi gol innanzi all'Unione Europea certo è che questa è sì una provocazione però è un'esigenza concreta della filiera balneare anche perché se si legge l'articolo 32 del decreto legge 133 del 2014 che è quello che permette sostanzialmente parifica i Marina Resort alle strutture ricettive all'aperto ha una chiara definizione una razio di agevolare la filiera nautica e dunque perché no decisione torno a ripetere prettamente politica di agevolare la filiera a questo punto balneare andando a prevedere delle agevolazioni fiscali che non debbono per forza essere incentrate su un'imposta armonizzata quale è quella dell'IVA ma che comunque come abbiamo visto nell'ambito delle edilizie attraverso vari bonus possano agevolare le imprese e dunque la filiera nell'esercizio delle loro attività è un'esigenza torno a ripetere sentita anche in un momento come questo in cui i balneari hanno bisogno di una mano del governo della politica per preservare comunque dei valori che fanno parte di un'eccellenza di un'eccellenza della nostra nazione io concludo per lasciare spazio anche alle prossime relazioni e vi ringrazio per l'attenzione grazie grazie veramente per noi è un tema centrale questo quindi ottimo grazie l'appogato Petillo e la dottoressa Ardito sul tema del valore aziendale grazie ci stanno ci mandano via abbiamo finito vado direttamente vai grazie grazie dell'invito Marco noi lavoriamo al fianco e ho provato un brivido a sentire i miei conterranei del frio di Venezia e Giulia parlare perché io sono nato a Monfalcone cresciuto a Monfalcone ho perso la lingua perché l'idioma perché mi sono trasferito presto a Roma papà era un comandante dei carabinieri che dal sud si era trasferito lì e quindi ho un percorso Lignano-Sabbiadoro andavo a fare il bagno e a cercare di fare qualche altra cosa anche quando ero ragazzetto insomma quindi allora il termine ci sono pochi minuti per cui tanto premesso tutto quello che è stato detto abbiamo capito che molto presto si parlerà di indennizi e quindi come ha detto molto correttamente il collega professor Zunarelli l'indennizzo non è una iattura purché sia saputo interpretare il Consiglio di Stato ci ha dato una chiave di lettura e gestito nella maniera corretta e a questo punto giusto due battute se indennizzo deve essere è importante che sia corretto cioè che i calcoli sul valore aziendale di anni di sacrifici delle piccole imprese grandi imprese medie imprese balneari siano valorizzati non solo con il calcolo di quelle che una volta chiamavano stigliature bensì anche con la valorizzazione dell'azienda in senso proprio e in essa anche il brand non voglio parlare della scuola di pensiero che proviene dai pensieri dal mondo anglosassone sulla valorizzazione del brand perché ci vorrebbe un'ora avremo altre occasioni e altri convegni ne stiamo organizzando uno in corte di cassazione proprio con la commissione antipubblici di cui faccio parte ma questo sarà il tema su cui bisognerà incentrare la richiesta di indennizzo e qui lascio la parola a chi mi grazie grazie Rino mi spiace di non poterla affrontare ma tanto la affronteremo sui vari territori e in altre sedi perché ci sarà un approfondimento a tappeto su questo argomento perché è di prioritarissimo interesse valore aziendale indennizi è il fulcro di una riforma quindi prego bene beh io chiaramente il mio intervento sarebbe stato più opportuno forse quando c'erano anche i politici perché io essendo una tecnica nel senso che sono dottore commercialista e quindi faccio perizie proprio per valorizzare le aziende avevo impostato la mia brevissima relazione dicendo che il codice civile definisce l'imprenditore come chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione dello scambio di beni e servizi ecco poi all'articolo 2084 quindi subito dopo dice che la legge determina l'articolo dice che la legge determina le categorie di imprese il cui esercizio è subordinato a concessione o autorizzazione amministrativa questo è il caso dei concessionari balneari per dirla velocemente e quindi quello che mi sembra importante dire è che gli imprenditori che esercitano la loro attività con una concessione non possono essere discriminati dagli altri imprenditori pertanto se un imprenditore che opera in un contesto diverso decide di cedere la propria azienda non fa altro che far fare una valutazione dei suoi beni e quindi dell'attivo del passivo del brand dell'avviamento e una volta ottenuto il risultato eventualmente a quel punto fa la cessione quindi andando subito al concetto così chiaro e centrale è che comunque la legge Traghi più volte nominata oggi all'articolo 4,7 lettera C e lettera I indica che al concessionario uscente a seguito dell'evidenza pubblica deve essere riconosciuto un indennizzo quindi bisogna andare a definire i criteri per l'indennizzo ed è evidente che è assolutamente importante ed è già stato detto più volte questa mattina che questi criteri devono essere definiti a livello nazionale e quindi dal nostro governo o dalle commissioni eccetera perché altrimenti come abbiamo visto e anche questo è stato detto più volte stamattina regioni o comuni sono andati avanti velocemente creando sperequazione tra gli imprenditori quindi abbiamo a disposizione i principi italiani di valutazione varati dal consiglio dei garanti cioè l'organismo italiano di valutazione sono già in vigore dal 2016 e possono essere una base assolutamente oggettiva e chiara per definire quello che è il valore delle aziende balneari posso entrare nel merito dicendo che chiaramente quello che è il metodo più consono è quello patrimoniale reddituale con una stima autonoma dell'avviamento aziendale e quindi qui chiaramente vanno valutati sia i beni di proprietà che sono accessori all'attività del concessionario balneare legacy ad esempio magazzini o cose del genere poi chiaramente vanno valutati anche i beni ammovibili e tutte le attrezzature con sicuramente un valore che è quello di ricostruzione decurtato del del deperimento magari appunto dovuto dal periodo questo deve essere assolutamente indipendente dai valori che ci sono in bilancio bisogna assolutamente scardinarci da quello che è il concetto che purtroppo è riportato anche nella legge draghi degli ammortamenti perché la parola ammortamento crea una grandissima confusione anche perché lo sappiamo tutti che i concessionari balneari possono ammortizzare tutti gli investimenti fatti sul demanio con il metodo finanziario che porta il valore del bene al termine della concessione a zero e quindi a quel punto secondo l'articolo 49 verrebbero indennizzati a zero quindi quello che chiaramente dicevo abbiamo i criteri utilizziamoli lo abbiamo fatto già in alcune piccole realtà delle concessioni e quindi cominciamo a dare il valore alle nostre aziende balneari chiudo senza entrare nel merito non riusciamo anzi dobbiamo ringraziare gli addetti che ci hanno fatto stare qualche minuto in più grazie veramente grazie Vera ci dobbiamo tornare sui temi economici perché è il tema della riforma dobbiamo fare delle riunioni in mirate specifiche perché ancora è a posto grazie grazie a tutti grazie 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 grazie